Ho tutto quello che serve nella borsa ferri K sopra il mio collo, tre coglioni, due ferri Oddio, ho gli occhi di tutti addosso Puta punta, il mio pesce vuole quello più grosso Stronzo se vuoi il fuoco, dillo pure Abbiamo 10 a K sotto queste cinture Mi conosco quella faccia perché tu non batti chiodo Guarda un po' sono il martello, questa è l'ironia del gioco Spingo forte sopra questa tizia Finte facce da cattivi, giuro vi è già visti Meglio ancora se gli scarsi mi odiano Si svegliano eleganti dentro una cassa di morgano Conto soldi dei contatti, su una Supra Maxi Anche tu sicuro conti, sì però solo gli schiaffi Vuota di contanti, verdi, viola o gialli Ci scrivo una H e nel frattempo gli ho rifatti Vedano le pute nel locale Ecco chi ti manda al funerale L'unico di cui ti puoi fidare Non per starmi i piedi o ti fai male Ti danno le pute nel locale Ecco chi ti manda al funerale L'unico di cui ti puoi fidare Non per starmi i piedi o ti fai male Ho le palle di tre chili cabron Pervezzè che sono come Bygon Voglio tutto se dimmi perché no Sto nel club ed inizia lo show Ma non è che sono forte, il livello che è ridicolo E non è che vado forte, sei tu sopra un trapicco Di sporchi e ferri lucidi Stand up come ludacris Fumo grammi di butta Ci fa la faccia di sti luridi Guarda caso sti falliti Vogliono vedermi appeso La corona brilla d'oro Ma dell'oro ha pure il peso Tu non è che sei difficile Secondo me sei leso Gente seria a drogarmi Situazioni sempre peso Pirri vogliono il mio culo Perché stanno sempre dietro Gli darei la merda pure Se scappassi sono in retro Mi ci compro casa ed auto Quegli spiccioli qui in tasca Se non hai capito il nome Per favore zitto e basta Fidano le pute nel locale Ecco chi ti manda al funerale L'unico di cui ti puoi fidare Non per starmi i piedi o ti fai male Fidano le pute nel locale Ecco chi ti manda al funerale L'unico di cui ti puoi fidare Non per starmi i piedi o ti fai male Fidano le pute nel locale Ecco chi ti manda al funerale L'unico di cui ti puoi fidare Non per starmi i piedi o ti fai male Fidano le pute nel locale Ecco chi ti manda al funerale L'unico di cui ti puoi fidare Non per starmi i piedi o ti fai male Buonasera a tutti Com'è Ammer Tutto a posto? Ciao belli Ecco qua Francesco Lebozza con Ammerone Buonasera Antonio Buonasera Antonio Vale Ammerone Ciao Capone amore mio Dove cazzo sei? Ti sto aspettando fratello Ben arrivato boss Ciao Andre Ciao che fine hai fatto? Ciao K che fine hai fatto? K che fine hai fatto? Spiega adesso K spiega adesso ai ragazzi Che fine hai fatto? Bubulim sapi K Mo ce lo dici? Che fine hai fatto? Ammerone a me Ancora non hanno risolto Comunque A questo punto Entrò la settimana prossima direttamente Ok ok Poi non ho ancora capito Quale problema avevi tu E' arrivato il principe In città Da prince Eccolo con la corona bionda Già all'oro Tutta Tutta bella e sistemata Bella Ammerone Ciao Francesco Ciao Fabrizio Daniele Buonasera Ammerone Buonasera Fra Buonasera Zuccio Luca Sera Ammerone Seguirti è sempre Un vero piacere Anche per me è un piacere Quando voi siete tutti qua Ad accogliermi così Come stasera ragazzi Con una pioggia Direi che tanti messaggi In chat Belli Ergastolo Errodimene Tutto quello che è successo Ma adesso Si gira Ed entra in città Perché senza di te Non andremo lontano Forza Capone Il nostro capitano Dai Capone Dai che ti aspettiamo Bello Intanto Gigi Ruzzo Antonio Luca Luciano Fabrizio Daniele Noemi Sebastiano Antonio Andrea Giovanni Gabriele Matteo Emilio Alberto Grazie a tutti per i like Ragazzi Grazie davvero di cuore Belli come sole Buonasera 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 Roberta Buonasera cara Come stai? Ormai Non guardo più la tv La sera Solo Amber Il top Di trattenimento Grazie amore mio Grazie Sono queste le belle parole Che voglio sentirmi dire Grazie di cuore Raga Io farò Dove fare l'esame Per entrare su Grau Ma la vedo brutta L'esame? Ma vai Enzu Che devi fare la well E qual è il problema? Allora Avete visto il titolo Ragazzi Genni Ti amo Fatela con lui la well È un ragazzo Dal cuore grosso Così Anzi un po' di più Così Ciao carissimo Ciao Jonathan Come stai? Buonasera principe Love Ciao Carmela Buonasera a voi ragazzi Buonasera a tutti Si parte? Partiamo? Siamo a 29 like Esattamente in 5 minuti di live Belli Dai che andiamo Ah ma quasi siamo svegliati a casa di Albe A proposito noi Ah mi sono dimenticato forse di aprire un programma Però non mi sentono ragazzi Hanno a proposito un programma Due secondi Silvio Manuel Maria Antonietta Angelo Carlos Jonathan Grazie per i like ragazzi Grazie mille Simone Ecco qua Allora Intanto io avevo una radio Che era 77 Tipo 77 Punto 77 Non so se ce la vuoi Ecco Ecco radio No devo vedere di qua Se me l'hanno cambiata Allora Bella 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 Guarda quanti like che arrivano Belli miei 566 Ragazzi ricordatevi 567.8 La radio Me la ricordate? 567.8 Che io tanto adesso Esco da uno schermo Mentre l'altro me la sono dimenticata 567.8 667.8 Check Check pezzi di merda Ma qua dove cazzo sono in un bagno? Bella Bella Questa qua ragazzi in teoria dovrebbe essere casa di Qualcuno di questa cosa? Qualcuno? Eh? Qualcuno? 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 Eh? Noi noi Vabbè Questa qua le carcce Sao bello Oh no Vabbè 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 Come no Perché? C'è? Solo perché ha questi Eh? Ah sì sì È per non sentire gli spari Eh Io non c'è la maschera Perché Per non sentire le persone che rompono i coglioni Annaggia a cazzo questo senza me ne sbattico io Ma c'è sotto c'è qualcuno? Eh Sì sì Eccoci A me serve una pistolina Ah non va comunque Andiamo a prendere il 582 Leo Guarda guarda il più brutto della compagnia Ma dove è mezzì Eccolo qua Lo brutto questo qua Quello brutto Guarda Buone Ecco me Tutto Tutto figaccione Bello Ok Vabbè Belli Oh Alfa Ti devi cambiare Eh a me Ciao Andrè Ciao Ciao La città La città Ho sentito dei commenti Stava il signor Zecco Appena ci ha visto Guarda casa Tre pattuglie Ha chiamato Sì hanno orato tutto Carlos Segui Segui amore mio Cosa? Stava il signor Zecco Stava in carneria A prendere delle cose Sì sì Ma hanno seguitato la macchina Appena ci ha visto Che ci ha riconosciuto Ha chiamato due altre macchine Ha chiamato il radio E pensa un po' Ma segui Mi serve da bere Mi serve da bere Mi serve da bere Che balordo Quello lì Deveva rapirlo anche lui Uno Ma che rapisci Ma ti dispare Facendo A me Dici a me Cioè Puro fa il rapi Uno del genere Anche a me Da bere Che non lo sai Non mi serve Non c'è tanto 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 Ci stava un armadio Qui Grazie Eh non lo so ragazzi Non è casa mia Questa Questa qua Il signor Alveac Che ieri sera Mi ho ospitato a dormire qua Bermode Salvatore Giovanni Andrea E Zuccio Bello 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 Grazie per il like ragazzi Ma ne siamo qua Ecco Ciao No andiamo giù Andiamo iniziamo a uscire da Cazzo si è scelta Cazzo Siamo in 5-10 minuti Ma è Ho dormito qua Il bagno Il bagno Il bagno Da dove sei entrato Guarda Ciao 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 Una pistoletta Una pistoletta Passiamo da te Cirù 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 Vabbè ma tanto ce l'abbiamo Ciò con due Cirù Cirù Ehm Eh questo è camera mia Cirù Da qua Cirù È bello Cirù Principe Bello Ben fatta Oh c'è riuscito a uscire da sta cazzo di casa Dove cazzo si esce Eh adesso ma siamo a piedi No No Se si fa No 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 Ragazzi non tu uscito dentro Venta prende grazie Chi sei tu Io Stavo Sono 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 O Poco L'uomo Ho trovato Di che sa Ma che Eh Aspetta Come ricordo Il nome Eh Non mi ricordo C'è E' di chi è la Ferrari Quella La Di mezzo Di mezzo Di mezzo Apresta Ma Ah Oh scusa Scusa Ma Di mezzo Anche mi ricavando E' il carbo quando prendi in giro per la terra 8 ore No A 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 ma che cazzo fai? lei che è? lei che è? ma perchè sei imputante? ma caldo! come faccio a sdraiarmi che si alza? è fatto che si fa stasera? sono entrati tutti? si quasi quasi tutti si siamo ritornati abbastanza guarda oggi ho passato una giornata su Discord con loro e stichiaro un po' di cose ragazzi buonasera speriamo che duri stavolta dai ma come stai? facciamo entrare K in città K in città dove cazzo sei? ma dove state andando? non lo so prende le pistole si K anche entra adesso vengo con voi aspetta che sali più bella Cristian Argole Bernard Salvatore Giovanni Andrea e Zuccio grazie per i like ragazzi siamo veramente sentati stasera a lasciare i like belli 44 like dopo 10 minuti di live così che si fa bravi oddio ah ho messo di seguire perchè mi sono rotto le palle di vedere occhio che brucia eh che si fa le regole perchè come i bambini su cazzo devi dare il sconto ma tanto non ti smetterà mai Carlos bisogna a noi essere superiori a determinate cose e poi non è vero che lui fa queste cose cioè ragazzi dipende ci sono tante cose che noi sappiamo sappiamo ma non stiamo intossicarci prendiamocela gioco prendiamocela un agente di polizia vedete che vi passa molto di più a favore K dove cazzo sei buonasera Cristian ciao bellezza come stai? quella ha detto chi è? ora è nella polizia ho fatto le camele palle? eh e tu quando lo è ci dice abuso abuso no io l'ho fatto io l'ho fatto io l'ho fatto non lo so qualcuno che stava col mezzo voleva sparare prima ma è quello ha iniziato a seguire lì col mezzo hai certi sbirri cazzo non lo vorrei conoscere comunque eh lo so appunto infatti se me la seguisse non le trovo più vado in caffo ce l'ha c'è la vita giù tu oppla cacca cazzo ci sarà una modo capirare guarda che un bel diavuletto che c'è dietro no a che senso? ma ti piace la collana? no capo c'è scritto eh guarda no c'è alve è andato in polizia quindi mi stai dicendo no capo no capito un cazzo bravo è proprio questo qual è la casa questa? no è sbagliato principe questa è la casa? a chi lui? che cos'è questo rumore? eh a me già vanno fermo 3 volte chi c'è? oh oddio piace di nuovo ahia che buono no 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 una rissa una rissa proprio una rissa le video salve il polizia salve che fai tu? se la polizia mi arraste ok aspetta ok si mi vuoi regge lo vuoi restare? lo vuoi restare? mi sono piaciuti i pugni mi sono piaciuti i miei pugni? ma rimettiti la voce bene non ero io ma come no? ero io ciao bellomeno ah ma non è la voce modificata ma che canzone sono io? vai impievo le pistole qualcuno mi ha un pugno io e invito a chiamarla con suo figlio e il mio abbonamento Netflix grazie delle 50 grazie Simo è già il terzo stasera ragazzi che si dice che siamo all'appuntamento fisso della sala onesto è un vero piacere grazie mille ragazzi ciao Diego ciao comunque domani il mio compleanno auguri e auguri a cantare dai una canzone dai tant'āguri a te come canzi come Чпон�ke comunque sarebbe mazzetta dici a tuo padre che ti fai 100 euro di regalo 200 euro di regalo 100 euro per tutti i player che ci sono presentati compio 6 anni e dici a papà la prestigio in 5 ci vuole ora per il compleanno fatti i cazzi i tuoi per piacere fatti con me la prestigio in Ging è andato via ci trovano 157 500 euro di playstation c'è la prestigio in 5 qua dentro ma perchè ho la pistola in mano? io ti rossi la pistola uno con la pistola uno con la mazza e che cos'è? raga a chi manca la pistola? venite qua a chi manca la pistola raga ah no perchè stavo in armeria da ciro vabbè uguale uguale io ce le ho qualcuna ne vendo due qui e con i pacchetti di colpi a casa quella di fronte c'ho una alfa prendi i colpi si perchè io non ne ho no no ce l'ho io ce l'ho io a casa ce l'ho io a casa ce l'ho io a casa non li fa prendere dove li hai? ce l'ho all'altra casa che ho svuotato quando avevano arrestato per l'asfalto vabbè c'ho 350 pacchetti a casa ah ce li ha mezzi 350 pacchi raga poi c'ho 10 carabine allora passate da qua 5-2 che ce ne andiamo insieme tutti quanti perchè è meglio stare tutti insieme stasera giriamo tutti uniti andiamo fino a prendere le munizioni da mezzo ok capo aspettando c'ho la cosa di fronte tranquillo ma come la casa di fronte è la cosa di fronte c'ho l'hotel di fronte io ma e allora poi da me c'è in 50-100 pacchi che li mettono anche qua da me si si no 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 te li do tutti l'ho svuotato dopo la casa perchè pensavo che ci assaltassero quando l'hanno preso per ah ok tu devi avere la pistola per il convoglio che abbiamo capito fake devi avere la pistola fake pilot no io che devi avere allora due Samu c'è la pistola si si ok tu nettura la pistola io ce l'ho io la pistola a chi manca la pistola a me mancano corpi ok c'è solo da bere chi manca la pistola chi manca la pistola ce l'ho io dove sto in tasse hai da bere per caso no c'è da mangiare se vuoi vabbè si ciao grazie giusto no bravo no ma tu 187 86 86 oh ma ci sta da bere no anche a me manca ho solo da mangiare se vuoi speriamo che sta a casa mia andiamo numerino da bere io 157 allora raga ci stanno già girando ma chi chi principe ci trovano al 110 a chi servono pacchi raga andiamo in giacchetta così beh buongiorno ragazzi stanno seguendo non so che sono ragazzi stanno seguendo 105 andiamo 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 a sparare non andiamo non andiamo cosa succede non ho sentito andiamo 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 salite in macchina salite in macchina civico civico allora civico 211 36 26 26 salva eh ci vediamo apri da dentro no raga 200 ma non potete aprire ragazzi e dittemi voi allora dove che civico era abbiamo la macchina non ferrate civico aspetta intorno al 200 vai verso il 200 a dritta a dritta dai dicemi voi ragazzi dove state 396 396 397 396 messo siamo in ospedale da vedi all'ospedale vai avanti vai veloce ok vi abbiamo visto vai 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 sono loro ma sì ma quelle due macchine nere che sono passate sfrecciando raga sono due Ferrari Bordeaux sì civico civico adesso il 200 siamo al 596 di montagna eh raga non andate a 200 fa cula 596 di montagna eh tornate tornate ragazzi scusate posizione aspetta aspetta c'hanno bene chi è questa ragazzi è macchina illegale ci seguono pure noi posizione posizione picciotti 10 riesce a guidare perchè devo fare una cosa sennò non ho problemi agli occhi ti fai guidare tu ma sì no no scendi scendi al volo scendi al volo bene tu scendi scendi vai 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 acqua 603 603 andate mettimi la posizione dove? 601 601 dovrebbe essere più in fondo a destra 603 aspetta devo levare la mia cazzo se no tu non riesci vuole che l'ho messa forse non ci seguono più non so ma non la vedo vai ora mettere c'è pure il nodo di arresto dai ragazzi 603 ci vediamo 603 stiamo arrivando noi ci va abbiamo ci va un chilometro e sette a noi siamo a 2.2 è la sua macchina qui è solo lui che ha una chiavica a guidarlo no anche ieri è pulito tutto il cervello e devo sistemare se no non non mancarlo ciao a tutti Jonathan grazie 50 stelle bello mio ma stasera quanti siete spero di ieri come combinate questa sera lo vedremo lo vedremo vale è fatto a chiappare fate a chiappare fatti lì stanno incontro non scendiamo dai con il ferrari rosso la stiamo e ti tira la maschera non la vedi? mese siete voi ci riseguono ci riseguono 603 noi siamo al multipiano sì sì multipiano multipiano noi siamo già qua vediamo anche noi multipiano siamo lì vicino due secondi sì abbiamo 10 ma sono in mezzo e noi sono solo sì sono 1 2 ma sto mese qua voi siamo noi siamo noi sono le macchine illegali e le ferrari? la macchina illegale è Bordeaux sono loro le ferrari sono io pornuto ma non vedi che sono io ma pezzo di merda a me ti stavo a cercare in caggia dove dove sta giù? non sparate non sparate sta macchina è Bordeaux chi è la ferrari con la macchina dietro? sono loro mi sa ma non è Cincon questo? no no lo so se non risponde non lo so eh raga non risponde ci si va ci si va ci si si questo è Cincon levate salone levate salone ma se è proprio un cornuto e la prima no? raga no non ce ne vado non ce ne vado per là dai raga andiamoce non posso non posso queste corde finché mi saltano niente ma entra in radio va minchione che non sei altro ma io ti stavo per ingaggiare ma se sei un coglione tre ore ti ho detto sono io ma non no non hai detto ho detto fu un drag tutti i più cornuti erano dentro sta macchina loro senti una cosa cornuto c'è topati bella meraviglia domani torno a casa ti aspettiamo blanchi io scusa scusa non mi prendi non mi rapi non mi rapi non mi rapi questo qua mi c'ha più anche andiamo dai su andiamo come c'è comunque ci stavano seguendo quelli color sabbia se no l'ho vissi erano due matti due sono morti che vuoi erano qual è la mia che stiamo a dire che la roba sopra paraporta poi vediamo ben andando non pensano ma dici così veloce e se ha pensato pensato non passano non passano dai montate 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 bella sta giacca azzurra bella bella inghiaffina cosa di classe sale cosa è inutile sale cosa è inutile così non ti fai inseguire minchiona no perché mi staccano le corde devo staccare la matteo stefano grazie per i like ragazzo ci vuole essere tutti in pari appena hai un attimo te lo sistemo io ah ah grazie no ma è una cosa proprio io li conosco i sabbia io no cazzo non so dove so lo vuoi fare ora no e cosa dovrei fare dimmi ora ho mutato la radio perché se stacco la radio non si stacca apri ti mi spicchio tools salti chat babbione baby king grazie per i like ragazzi benvenuti buonasera a tutti come ha mer senti ragazzi tremenda stasera c'è una caldazza qua mamma mia si che c'è c'è qualche cosa come si chiama voi non morite di caldo ragazzi whisper history cliente le corde mi ha messo il condizionatore qua dietro facciamo dopo dai non importa facciamo dopo dai ragazzi dove dobbiamo andare qualcuno ci c'è noi dobbiamo andare un attimo sul computer automotico non va niente a sto condizionatore andiamoci a prendere andiamoci a prendere gli importanti proiettri che non si sa mai bravo ragazzi a me serve da bere dobbiamo trovare un negozio aperto non ho più da bere spiaggia beh io pure non ho da mangiare ma davvero no comunque ieri a mekappa a mekappa ieri c'hanno cavolo hai detto cioè se farò ne come stai dove sono hanno saltato tutti i vestiti neri la cosa più bella è che io mi ricordo tutto ottimo franchi ottimo gli arancioni comunque sono vestiti neri eh la burla stava sparando gli arancioni non sono tutti neri adesso quello la che collegava i spucci è il centrale ma qua vicino sono sparando dove ne ha aperto per mangiare ragazzi eh qua ci uovo a dog flica centrale che ci dico a 266 no a 200 a 200 però dall'altra parte no a 2 beh altezza flica a 200 madonna ma perché tutte le volte deve schivare la macchina invece di entrare a 200 per la perché a proprio non c'è la macchina qui che spara andate dove sono aspettate blalalalalalalalalalalalala sono Samir e io ti devo dormire mette un like eh la tua non c'è più sedemmo lo sanno io tu mi sta scegliando di sedemmo si pure lui grì siamo tutti siamo tutti siamo tutti morendoti se porco ho bevuto io siamo pure lui che stava a sette ormai essa messa una cosa sola ragazzi siamo insieme a livello sentiamo ma dobbiamo prendere uno spirito stasera sa me ma dovremmo andare in teoria pure a preparare con quella che cazzo alla gruva chiamo chiamo argo e chiedo se in città o se no andiamo direttamente ma io direttamente io lo chiamerei io lo chiamerei comunque cioè non andiamo noi quattro picciotti se dobbiamo andare dobbiamo andare belli marsicci ah mica noi quattro quanti siamo e infatti la gara la gara andiamo a tutti abbiamo andato in palla avete detto? ah beh vuoi andare prima d'argo? si ok oh stop argolo nella città dai andiamo noi ah ok allora ragazzi andiamo al gruva dai ci vediamo al benzinaio quello appena prima e entriamo tutti insieme ma comunque c'erano due macchine sportive nere prima che Bordeaux stavano pintando eh tipo la mia Bordeaux il Bordeaux quasi nero le nostre parti se la facevano eh ah no no principessa buongiorno 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 si si mancano ancora loro ma dovrebbero arrivare ok K doveva arrivare gli altri non lo so ok ciao Debora ciao cara come va? è tornato il vecchio telefono si per fortuna si Fabione meno male meno male non avevo più il numero di telefono non c'evo più un cazzo stavo impazzendo dove siete? mi ricordo anche Gio 120 ma ha cambiato personaggio lui ci state? vai andiamo al group iniziamo a andare sono a 500 e mezzo ragazzi ok va bene ma ci sta qualcuno sicuro al group? non lo so vieni andare a vedere ok ok ragazzi sono arrivato chi è quello K? chi è? sono arrivato ah ah che ne so ok andiamo si che porno vai stiamo mangiando sempre mangio no quella lì è sempre lì ragazzi quella è l'icona quella è sempre stata lì ragazzi che ne so non sperate all'opportunità non sperate all'opportunità guardate che belle rotte fai ce ne vorrebbe uno così eh tipo quelli del colmo bello si cazzo due no? ma buttate due poi vadoci a mangiare portare il 118 c'è qualcuno c'è qualcuno facciamo una ralla davanti al 118 vai ragazzi ma non hai rimasto il telefono vecchio K è arrivato si si già da ieri a mille stelle vi faccio vedere quanto è scatto almer tu pode no 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 non ne so non ne so dai ma giarcazza perché? c'è una macchina uccio? rimane in macchina ma gli vogliamo entrare raga ma non si entra così nei ghetti ragazzo la ricerca le cose sbagliata con l'alberto forse non si entra così nei ghetti ragazzi non si fa così a te li ti ricordo chi è quello che state prendendo chi è alfo alfa con noi no? no, lui è alfa pure con il cappello lì alla casa degli acci è brutto e cosa state facendo? che è sta macchina? dai, ci sono un po' di roma per me puoi accattare a salvello no, sta tangendo scazzato tutti scazzati ci ha fatto paura come parlava ora è venuto che te ne facciamo andare come un minchione che voleva? che voleva? no, sto morendo di sede non lo so, c'erano gli altri che l'hanno lasciato andare aspetta, faccio un colpo di telefono vediamo se avvergono le gomme e allora raga, i due ghetti da vedere non erano questi poi ci hanno detto di cercare dei certi blu di provare a parlare con loro dei blu dei blu non so quale di ieri tra l'altro ieri sera io due blu li ho rapiti ma hanno fatto un po' i fenomeni non so se ci sono altri blu ah, ma sui blu, quali di cui inventiamo tutti? dimmi di no non credo iiii penso che ce ne sono altri quelli di re dov'è quel coltino? ma capisci a me, quelli di re spero di no ecco quelli che lavorano a pilier eh, ma nessuno c'è una bottiglia d'acqua in tasca si sara si sara si sara si sara ok allora ci sto non stanno fare niente ed ecco qualcuno ha dei munizioni per ab ergonomini per favore? no четче usarmos la munizioni per Ab ergonomini io ne ho otto pacchi io ne ho in... io ne ho otto pacchi volendo eh fermati fermati che te li diamo dai capone un cappone, un cappone, un cappone sali con noi, sale che abbiamo il formaggio buono che numero è tu? 185 mila fa 5 ore tu hai definito? non mi sembra di nuovo quanto hai detto? 185 mila fammi dare prima a lui, dimmi Marco che numero sei dimmi che numero sei, dimmi che numero sei ormai dimmi dai 132, 1 per 2 ok, capone adesso vuoi dimmi il tuo numero 185 aspetta c'è qua il cappone non mi abbassate il cappone ok, aspetta no, non c'è un cazzo, non hai capito prima c'avevo una casa con 60 pistole 7 milioni 4 carabine 34 a cappone 21 macchine ho sbattuto la casa e non mi ero tutto in cazzo 4 ti preoccupare che ti faremo ritornare la memoria ti chiede il laudo no, nel laudo siamo 4 noi siamo 3 in macchina e 1 in bordo ieri com'è fatto 2 colpi 2 colpi ma qua è da mangiare 185 da mangiare da mangiare e tu cammina, sennò qua siamo fermi a mezza da salto da mangiare picciolto da mangiare picciolto mangiare ce l'ho io da bene da me il numero ca 185 signor ma che signore che che vuole da mangiare? io ce l'ho eh ma quindi principe con chi dobbiamo andare a fare le questioni? eh le questioni i ragazzi dovrebbero venire loro a farle con noi se ci hanno le palle ma chi so questi? siccome loro non vengono a fare le questioni con noi noi iniziamo a cercare loro che dite? ma chi so dimmi potente potente ma non sappiamo il chetto? eh dovremmo sapere anche la casa passione ragazzi però no no sono sei allora quelli che siamo quelli che tra virgolette il signor d'arco ci ha detto che come come? li stanno cercando sono mafie avranno anche delle gang sotto eh per carità noi dovremmo iniziare a distruggergli le gang però ah vuoi metterla? poi me la dai se mi rimane che radio è la raga? 568.8 eh andiamo... Samy quello con la moto fa ogni tanto faccia una ronda veloce verso il group per vedere se c'è qualcuno eh 172 non aveva detto qua me pare è possibile chi è 172 legato a voi? 172 io H non aveva detto che c'erano delle persone qui questa posizione qui che ho messo guarda GPS no bro hai passato a radio a un'altra persona no a me oh a 185 l'ho passata no bro si si mi pare di si raga guardate ridate digli ai picciotti che stiamo andando io c'ho due radio io c'ho due radio beh una 185 che è K che radio è blu? 5 6 7.8 qualche 2 ho rimagnato 5 6 7.8 io sono 172 lui anche Renatino ma ci sono anche degli altri di blu Fabione fidati perché il coach ci non intendeva quelli finitime ma Jay K tu ho dato un telefono se ce l'hai si si J capo di viola non ce l'ho e prendi un lavoro in barrosseria si c'è sempre quella di un micro blu c'è lo zio di solito un micro grigio ritorno al gru ritorno al gru ritorno al gru buonasera mitico ammerone buonasera mitico tipi bello mio coppa e ammer dove? stanno pushing dentro il 두 le pistole fuori andiamo 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 erano erano Napoli non è contato Siamo arrivati, li seguiamo Inizia a prendere quello in moto Dio stanno già sparando, mi sa Io vedo l'opera, non posso mangiare Chiudirò, chiudirò No, li chiederei da queste Dai scendi, su, stai puntando Vemmi che ha fatto Fatti, fatti, fatti Fatti, fatti Fatti, fatti Fatti, fatti Fatti, fatti, fatti Fatti, fatti, fatti Chi manca? All'est, tutti fatti Tutti fatti, mi sa Ragazzi c'e ne uno sotto il ponta ancora vivo, se volete non abbia prendilo, 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 come no? bravo, 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 mi spara, mi spara dov'è? dobbiamo tutti lo blocchiamo, stiamo tutti lo blocchiamo dov'è? ragazzi, c'è uno sbirri, c'è uno sbirri c'è uno sbirri, c'è uno sbirri prendiamo la roba, portate uno all'ospedale prendila, prendila eh, portate l'ospedale, portate l'ospedale chiediamo tempo in vita guardi, guarda, guarda, guarda la roba qui ok, noi la portiamo in Italia all'ospedale, non uno, regà questo non era quello, questa non era quella macchina blu ragazzi, c'è ancora uno che fermo ragazzi, credete se è finita prima chiedete prima se è finita non luttate allora che cazzo luttate e si nasconde in mezzo il cispuglio sotto qua al ponte ragazzi, andiamo, andiamo andiamo, andiamo questo cazzo cispuglio, ragazzi, lo vedo, lo vedo questo cazzo cacani cispuglio, andiamo eh, come si può chiudici, no, non lo so per tre, con l'arma in mano ah, è vero facciamoci il terzo, facciamoci il terzo, guai ponire, ponire, ponire sono di più, non ho dov'è, dov'è, dov'è tra... e non lo so è l'arma colpa occhio sbirri ho persi i colpi, penso, persi i colpi ho fatto, non ho colpi avete fatto? avete fatto? vado, 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 vado vado, vado vado, vado chiedete se finite per favore prima di toccarli non li toccate che sennò avrò un po' di coglioni nella caffetteria ma perché? adesso avrò un po' di coglioni che avete rultati prima che finiva si, dobbiamo aspettare si, dobbiamo aspettare chi ha colpi? chi ha colpi? chi ha colpi? dove sei? che volti? ok, non pensanti che volti qui da me? vai esso, gorilla facciamo la conta di quanti ne abbiamo fatti io quattro io uno io uno io uno qua se ne sono due da me? qua se ne sono due da me? qua se ne sono due da me? non ho colpi siete con le cazze di sparo cosa ho lì? da te? da te dove è? che è? che è che non si sta? questo prende ricordi da lo nostro? si no, anche da loro è che poi azione finita azione finita azione finita azione finita salutate foto a tutti, per favore, grazie ragazzi dove siete? ma sono venite ancora in corso? no, no, finita raga basta, basta non ho detto finita ma che hanno detto in corso? ma che cazzo faccio? no, no, è finita è finita è finita basta, basta niente da smangiare niente da smangiare scrivete prendete solo macchina e scusate il cazzo prendete solo la roba giusta che si può prendere non prendete mangiare per prendila 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 bella tienita eh? no, prendi ormai è un quarto d'ora che stiamo aspettando cazzo dobbiamo aspettare gente che arriva dall'altra parte del mondo scrivete finita spammatelo per favore che questi non capiscono allora dobbiamo scrivere noi finita fra cazzo dobbiamo aspettare cazzo dobbiamo aspettare cazzo dobbiamo aspettare perché mi sono rotto il cazzo non posso non scrivere finita wow wow mamma me ma io non ci credo vabbè lasciate stare sono quelli di ieri che è cambiata a me eh cosa facciamo dopo rompono il cazzo hanno scritto finita quindi è finita no, io l'ho scritto io l'ho scritto cioè l'hanno scritto prima loro basta, basta, basta l'importante l'importante è che il primo che l'ha scritto sia stato loro eh ragazzi perché sennò si, 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 si e hanno la pula? è che mo' continuano a scrivere in corso in corso eh non posso fargli la foto i ragazzi fategli le foto prendete la roba e andiamo dai questa è un'altra mia una che mi fa la foto a questa Gigi, una megapoda va bella flow flow raga mi date un civico per piacere? dove vai col metro? fiat andiamo a farlo a foto a uno di loro mi sentite a radio mi date un civico per piacere? raga i macchi guardate i miei macchi dall'interno io ero in assistenza eh eh finiamo e ci vado ok alle scelte ragazzi mi potete dare un civico? io ho trovato il numero 379 faccio una cosa io raga io mi metto dentro un attimo un locale e vado a bere il caffè va bene ah ho chiamato l'hanno chiamato come andrà stato uno ma se li portiamo se li messiamo tutti no 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 tutti no dove sei tu ma no io sto a metterla in mezzo a tutti vieni qua nell'audio prendetene uno ragazzi prendetene uno due capito lo facciamo cosa che ci hanno ingaggiato se prendiamo uno due eh eh sì ragazzi se lo volete rapire sì eh sì ci hanno ingaggiato io portare via portare alfa all'ospedale raga la micro la tengo prendi tutto che è la micro dove andiamo questo ce l'ha da bere ma no da bere non prenderglielo ma io non sto vedendo un cazzo io ho preso i soldi ho preso i soldi ho preso i soldi ho preso il telefono radio e io c'ho uno raga dove andiamo? un attimo all'ospedale a portare alfa a portare alfa un momento all'ospedale vabbè perchè andiamo all'ospedale che c'è puoi fare l'ambulanza e perchè non l'ha fatto allora? alfone vai a ambulanza l'ho fatto io c'è un cellulare eh vabbè vai a casa il cellulare vabbè vai all'ospedale io le do il trepito dai grazie caro eh comunque io ho preso i soldi ah se un aglio ho preso la scuola della muro la scuola della bucata era quella la macchina che seguiva prima noi eh eh vabbè ora può essere sì c'è una ruota bucata allora ragazzi dovete cercare di ascoltarmi noi stiamo andando verso l'ospedale abbiamo una gomma bucata è un morto in mano e siamo in tre quindi veniteci a dare supporto perché se ci prendono ci curano è uno che è uno che può aggiustare però fermato l'ospedale noi medici sono usciti tutti qualcuno è meccanico? no, fermati qua chiedi, chiedi il radio mi serve un meccanico all'ospedale un genna portiamo all'ospedale foto fatta hai visto k ha fatto tango 3 in 5 secondi no uno ne ha fatto k dai finita per disingaggio principe ma perché erano puntati? ma niente sono sceli e hanno sparato ma perché? eh perché non sanno giocare ce l'hai 3k almeno? madonna madonna ma manca i sordi c'ha questo neanche io ce li ho porco il cazzo sì, arbeccio ah, i cibi cazzo lo voglio oh, ma questo è un piede, un piede col modificata poichè bar poichè tata, scusa poichè bari, madonna ah, principe che numero sei? principe piano con i nomi, raga cosa? eh, non posso lo sentire eh, sì allora, aspetta allora, spero che ho tenuto i soldi vabbè, capo eh, uno, raga, che li va a prendi di là qualcuno che viene con me qualcuno che viene con me uno al teatro, fare la pistola ma dove ho tirato la pistola? cosa devi fare? capo capo dimmi la micro la tengo oppure la mettiamo io? ma inizi a tenerla dove vai, marcolino? e poi la portiamo a casa ok dove vai? dove? e come mai li avete portati all'ospedale questi? perché molti sentiamo nemmeno e poi ho preso una combat ah, per apirne? sì sì anche io ho una combat eh? devo fare la combat bro dove si va? la minizioni chiami dalle minizioni ancora ce ne sono qualche stai da minizioni numero 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 e stai da me stai da fare dammi la faccia guardate che fanno bug amusing con quattro in braccio dimmi poi la marina dove sei andato? ragazzi vado con i meccani per rio eh, se metti oro guarda qua dai mi eh? capisco il calcio metti un po' di oro il mio pacchetto che ore ti devo mettere? eh, non si capisce una minchia eh, cosa devi capire? stanno arrestando i ragazzi cosa sono arrestati? stanno arrestando i ragazzi vedendo ma si può? dimmi non fare raga, via le armi la quale maschere eh? ma si può colapsare? via le armi e maschere 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 andiamo via andiamo via andiamo via un po' da pago ci sono sicuro tranquilli 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 come tolgo la roba da dietro? come tolgo la cosa qua da dietro? f7 pacchettino magica grazie grazie raga mi dà un cipo vedi 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 ma non so perché li hanno chiamata mi dissocio hai capito? cosa stanno facendo? li stanno facendo li animare? li stanno si ma le hanno lottate e beh guarda che ho preso io si si per forza si può si gentilmente mi potete dare un ciclo e ci troviamo una volta lottati si si l'ho già prelevato vai per ricordare andiamo ma le avete tirati su no? spammate no sono morti lo fanno col telefono dopo perchè cosa ne ho questi cosa fai faccio? sali qua siamo ho uno che guida oh mi piccani prendi 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 a questo storico ma che due che cazzo per che se ne vada la campina di vichia come stavano? salite qua salite qua andiamo a fare le spalle vai in attimo che c'è un problema di nottri no vai se fingami qualcosa dove vuoi ma se parlate tutti insieme ma io come faccio a capirci qualcosa voi pensate sempre di metti ordine ma come cazzo faccio io non capisco una cazzo di minchia non capisco ecco sono un po' regasciate le cose tutti così principe fai qualcosa di 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 ma porca di quella zozza mai? ma guardate me? mampe che mampe po' b lu mi il s Sì, tanto lo so dire perché non lo so Guarda che te si dì, non lo so dire No, l'immacella è tutto sito No, 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 no No, no, no Ok, da lì posso venire, tu lo capisci a migliorare Dove li state portando, raga? Vado a bloccare Eh? No, no Nove, zero, sei, molo Mi piace il molo, eh, Alfa Eh, ma è Eh, ma se vengono, eh Sto posto, andiamo all'811 assolutamente Non lo so, dimmi i dubbi No, ormai, dai, andiamo lì No, io sarei andato a 71 lì, in quella specie di Dove si può fare bene il perimetro fuori Però dentro c'è quella scala lì Ma capisci bene che è il molo, eh C'è l'unica entrata ed è lunga Lo dici tu, amore mio Vabbè, perché non vedono la nuova Penso che ci sono anch'io qua Arrivare con le barche un attimo, eh Mentre che ti coordini davanti e dietro Ma questi sono appena arrivati Ci sono due le barche già Se non fanno metallo, ma cazzo fanno da arrivare là Ne faccio No, beh Beh, se vengono si va bero un bel caffè Tanto ne ho abituati con loro Ma come minimo Quindi è un cappuccino E' un cappuccino Capciacca Boh Perché Eh sì, qua la lascio Ma porco il mondo che c'è sotto i piedi No, no, ragazzi, le macchine loro non le lasciate qua Eh Oi Quanto? Le macchine loro non le hai lasciate qua fuori nella strada Guarda caso diranno che sono passati Hanno visto la loro macchina e si sono fermati La musica metallica va a porta Molto Le macchine loro non le parcheggiate qua, eh Chiunque... Ok, quella lì, ok E anche se ce ne sono delle altre che stanno arrivando Non mettetele qui davanti Perché sennò Le hanno viste passando Sì, sì, sì Portano le fogne Ma l'ha portato al molo, ragazzi Ammere, tu dove vai tutti i civici? Dei gialli Ti magari... Sì, sì, sì Tutto Ho anche il civico di casa degli NGM Che mi ha detto l'altra volta Argo Madonna che montante Da sotto Ma chi sono? Badapim Madonna, gli ho dato un montante a questo Siamo qua? Sì Numero, numero Pensa il numero Pensa il tuo cellulare Pronto? 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 Dove cazzo siete tutti quanti? Oh, buonasera signore Dove cazzo essere il signor Argo? No, l'ho chiamato anch'io prima perché avevo bisogno di parlare ma non è in città mi sa Ok Ok Aveva bisogno? Bene Devo farmi prendere quella di la Yakuza Ah ok Noi abbiamo... Ieri sera quando siamo andati via da quell'incontro signore Ma lei sa se ci sono diversi blu e i blu che ci ha consigliato lei sono un gruppo solo? Ma io so che ho visto solo quelli di blu Perché ieri sera ho preso un blu Signore è tutto atteggioso con un accento un po' napoletano Quello è Tutto atteggioso Mi ha detto che lui non vuole lavorare per nessuno Che vuole farsi i cazzi suoi E finchè ce n'è qua l'ha fatto tutto il fenomeno Alla fine che l'abbiamo lasciato andare Adesso ho rappuglito altri 3 e 4 blu Gli ho buttati giù tutti quanti Adesso ne ho presi altri 3 Vabbè magari lei offrà soldi per... Eh io l'ho detto signore Gli ho detto ma per caso la sua posizione potrebbe avere un prezzo Le possiamo offrire dei soldi Ma no a me non me ne frega niente Io ho i miei giri Faccio le mie cose Sì ma ho capito ma quando devi pulire i soldi poi dove vai? Ma poi quando sarà vedrò Perché adesso Cioè praticamente lui ha fatto capire che la criminalità Per lui è uno sport signore ieri sera Fa quello che vuole E' uno sport Lo fa a tempo perso quando non c'ha niente da fare Va a fare un po' di campi C'ha la cocaina c'ha questo c'ha quello però Va bene Non gliene frega niente quindi veda lei Va bene Se lo riesci a convincere Se no Non c'è da convincere Deve fare e basta Va bene allora se vuole poi ce lo chiami per un incontro Mi ci ripresento davanti Tanto non l'ho fatto svenire né niente L'ho lasciato così bello libero Non è raga Adesso parlo con altri suoi dei ragazzi qua Vi siti di blu vediamo se sono uomini suoi o sono altri blu Va bene va bene quindi ti aggaccio tanto A più tardi A più tardi Eh no Non posso fare niente Dato però disattiva dei dispositivi Sì Non fare niente Non fare niente Non fare niente Ha da bere lei signore Voglio studiarmi una ma una Ma T'ho messo malissimo tra mangiare e bere io eh signori Sì Te l'ho messo a studiare Beh uno te lo passo Ehm perché non posso Mi metto in informazione F snap C'è il telefono Deve studiarmi una motta fattata bene ragazzi Del tipo Avrò ma non mi rompe lo faccio qui sono risvegliato ho un mio lungo sogno porca miseria no di nuovo lui ma no mio c'è il cellulare ma che è successo qui perchè mi trovo qua perché ti trovo qua come fai a sapere chi ti ha rapito perchè di nuovo qua aiuto non mi sparate buonasera signori buonasera buonasera ma lei l'ha già vista ieri sera scusami quando mi ha visto ieri sera l'ho rapito già una volta mannaggia il cazzo ieri sera mi ha rapito un gruppo di persone mi ha portato in macelleria si ero io ah siete voi eh ho fatto di nuovo non pensavo che eravate sempre voi perchè dai davanti ai coglioni ma mi ha impiuso perchè io ho i capelli eh sicuramente signora sicuramente prego ti do il mio cappello e poi ieri forse un pochino tra una cosa e l'altra magari le persone sieratevoli non mi sono chiesto neanche il suo nome Renatino mi chiamo Renatino 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 allora signora Renatino io come hai visto purtroppo e da ieri che sto facendo un po' di di ricerca a quelli vestiti col vostro colore si diciamo che non è che mi sono svegliato la mattina e ho iniziato a fare questa ricerca a caso si me l'hanno chiesto delle forze superiori addirittura? si mi hanno chiesto di prendere e parlare con dei ragazzi blu perchè potrebbero aver bisogno di una mano o di ragazzi ma chi è sta persona che se posso sapere ovviamente eh signore sono persone molto in alto eh che conosciamo di molto in alto ragazzi ma io non lo so sinceramente io conosco il nostro signore padre eterno lui conosco molto in alto eh molto vicino a lui potrebbe essere chiama Ron ma Gesù Cristo bravo ah oh mio dio proprio lei no comunque a parte tutto signore le ripeto non so perché questa persona abbia detto che che non dimmi letture ma che civico ma ti vedo con la voca c'era proprio al telefono un attimo fa scarpe 3 3 3 3 1 3 2 1 3 vai pure 2 3 5 potrebbe attasciarla proprio per vai giù va giù allora mi scusi signore perdonatemi si viva ditemi tutto c'era proprio al telefono un attimo fa con questo con questo signore si e lui gli ho detto guardi ho bisogno di sapere se ci sono diversi gruppi vestiti così in città perché probabilmente quelli che ho preso ieri magari ce ne sono altri proverò a cercare ho preso di nuovo voi quindi probabilmente lui mi dice io ho conosciuto solo questi blu non ce ne sono altri ah quindi probabilmente stiamo parlando proprio delle stesse persone e perché non facciamo un'altra cosa più interessante e più intelligente bravissimo ci parliamo insieme certo sì sono raccordissimo ok oh signore allora io sto parlando di nuovo con quel signore che gli ho detto che avevo preso ieri signor Renatino l'ho preso ieri ma non sapevo il suo nome adesso me l'ha detto ok ecco diciamo che praticamente se lei riuscisse a raggiungerci così capiamo un pochino questa situazione se non è troppo impegnato perché dove siete? allora noi siamo al molo del 906 mi dovrebbe dare un po' di tempo perché sto per atterrare dentro un cazzo di chietto ah ok vabbè io intanto provo a parlare con lui poi lei quando ha finito se ci richiama ma Massimo poi cioè adesso loro li lascio andare tanto le informazioni che voglio sono sempre quelle che mi ha chiesto lei ieri sera quindi sì allora sì sì ok si prenda il numero dopo facciamo un informe ok facciamo così così almeno chiariamo questa cosa perché il signor Renatino mi dice che forse abbiamo un problema e non ti far seguire grazie che problema abbiamo è che io glielo ho detto che lei mi ha detto di cercarli e di parlargli ma mi dice che abbiamo probabilmente un problema quindi non so o lei ha qualcosa da dirgli o non so adesso comunque ci faccio ci parliamo ok ci facciamo due parole dopo insieme adesso intanto ci faccio una chiacchierata io va bene va bene ma che cazzo ho capito ha capito allora no adesso il signore stava atterrando in un ghetto aveva le sue cose da fare una persona molto impegnata buono e vabbè signora Renatino al massimo se mi lascia il numero di telefono e dopo ci sentiamo ma c'è quell'altro suo amico quello di ieri come si chiama il signor A eh ma non mi sa che non è in città ma io non parlo ah tra parentesi io il numero di telefono ieri poi la scheda ti ricordi che non me l'avete data più ho un'altra scheda ah ok allora mi segno questo ehm aspetta 5-5-5 5-5-5 3 volte 8 sì 6-9 ok perfetto allora il punto è un po' questo io vi voglio offrire del lavoro signore lei ieri mi ha detto chiaramente che il lavoro non ci serve il lavoro non ci serve ma come mi ha ribadito di nuovo anche il signore qua questa cosa non può esistere all'interno di questa città in che senso? che nessuno può lavorare per i fatti suoi bisogna avere qualcuno sopra qualcuno sotto le gerarchie sono queste bisogna andare avanti tutti quanti in una determinata maniera eh quindi lei non ha nessuno sopra assolutamente ok l'ho specificato tutto ieri ok e il fatto è che poi tra parentesi tra i miei lunghi ricordi ho sentito quella persona con un dialetto un po' particolare con una maschera animalesca come si vuol dire che niente di meno era convinto che io abitassi dove ieri voi mi avete preso possibile o ricordo io male ah sta tendendo in palpa cioè lui era convinto che mi aveva preso vicino casa gliel'ha detto a lei no 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 ieri mentre stavamo parlando ieri alla macellina io abbo io non so lei dove abita signore lei mi ha detto che abita in una macchina vicino a un parcheggio io avevo detto io avevo detto questo ma signore era convinto che io abitassi dove voi mi avete preso ah io questo non lo so signore sinceramente non so lui che come mai abbia pensato questo adesso magari si arriva a poi non so io so le parole che mi dice lei lei mi ha detto che sta e abita un po' in un parcheggio un po' nelle macchine si infatti noi siamo ragazzi di strada non ho detto ripetuto ieri appunto io le offrivo le offrivo da lavorare le offrivo comunque dei compensi dei soldi no ma vi ripeto non servono compensi ma no per una questione di superiorità una questione abbiamo cioè abbiamo un bel po' di armi da potercela cavare da soli e quando ci viene da fare le rapine come lo specifico apriere quando arriveremo a una bella cifra contatteremo qualcuno forse sarà lei forse sarà qualcun altro e ci faremo puliti i soldi ma no per una questione di lavoro una questione perché probabilmente poi un giorno ci servirà i soldi quando ci sono 4 scemo cioè fondamentalmente bravo ne siamo pochi siamo 4 5 di noi cioè non è che chissà quanti ne siamo sono 6 7 esagerati proprio ma non è che ne siamo a tanti capisci capito capito vabbè allora signor Renatino facciamo così più tardi tanto ci mettiamo d'accordo io la contatto sì sì perché sono veramente curioso di riconoscere questa persona che mi conosce degli alti ranghi addirittura no pensavo non pensavo di essere non pensavo che eravamo così famosi probabilmente sì non lo sa niente nemmeno dopo 4 giorni gli altri ranghi già ci conoscono c'è stata gente che 4 giorni che siete in città eh sì conosce tutti lui assurdo eh boh non lo so anche io anche io conosco tutti comunque quello che dovevo chiedervi ve l'ho chiesto ieri quello che vi volevo proporre ve l'ho riproposto la risposta non è cambiata quindi che strada dovete prendere e io va bene perché gli ordini sono ordini signore sì 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 una buona serata arrivederci una domanda al signore quale signore chi mi dico a lei io quello mascherato vestito ieri sì lei ieri diceva che per pulire i soldi o se deve prendere ordini sì contatta direttamente il cartario ma no ragazzi allora lui questo è stato le sue parole questo è metà la è che per quello che lo ha messo un po' in difficoltà è sicuro di sta cosa a certo persona l'ha detto dentro la macchina quando stavate d'arco lei si sta sbagliando quindi secondo me è meglio che ci riflette ne riparliamo dopo perché se non mi sta sbagliando di grosso allora dopo riguarda non ho detto assolutamente niente di questa cosa nel dubbio ci distociamo tutti belli belli insieme e perché riflette non ci va dopo riguardano sì 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 arrivederci arrivederci buona serata tutto noi corriamo siamo gente a povera noi corriamo e ci vengono la lingua ma dove hai il zucco oh ragazzi mi raccomando attenzione quando usciamo che non vorremmo hai capito come ieri ma io fate prendere le macchine come mai si abbiamo finito l'ho detto proprio ieri ok cosa hai che ha detto quando si riferisce si è è è è ma siete parlando in due armate che contatto direttamente il cartello no guardami la tua cosa no è vero ha detto me non lo sentite dopo riguardo un attimo lo fermo quando lo prendo chi sei tu Davide la mia GoPro chi sei davide se lasciamo a fermarci ma cosa lo ci do a fare la gama dai vado prendo la macchina che mi spiaggia facciamo sto cavolo di rp non state tutti sempre pensate di ammazzare la gente dai però è impossibile fare rp ma allora ragazzi lui adesso ha detto queste cose e dopo parliamo con lui davanti a Darko non può fare diverso però oggi non farò o 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 andiamo andiamo via veloci o qualcuno che sa la c car Vai, vai Comunque anche questo regalino, come tutti quanti gli altri, finisce con la testa a terra Ma sembra simpatico E' negato a fare l'esercito L'ho preso anche io, io ho fatto il tuo stesso discorso e mi ha detto le stesse risposte Ma chi sei tu Davide? Tuoli qua, tu, Raul? Eh raga, io vi dico Più che fare così, non so che fare, capite? Io non posso spingere così nell'RP, cioè io non lo conosco, non so chi è, non posso dire dove abitava Non so che posso fare determinate cose Io non so nulla di lui, non lo conosco, l'ha detto quanto lui, 4 giorni che è in città, non posso spingere C'hai acqua, tu, no? No, è Nino Banchi, mortale Oh, che bello Dove andiamo, raga? Eh, sinceramente non so, ho capito Davide, cioè Quando lo prendi, gli fai le domande, ti dici queste cose qua, io non lo conosco Non posso spingere per fermarlo, capito? Non lo faccio, non lo faccio, non lo faccio L'ho rapito già ieri sera, lo rapisco 12 ore dopo Ma se andiamo all'844, si stabilizziamo un attimo lì, per il momento Proviamo, non proviamo ad andare di nuovo un attimino lì a Day Viola Ah, ok Ragazzi, tutti dei Viola, allora Civico? A Grupo A Grupo Passiamo un attimo per andare davvero da Matteo Ma i Viola si vedebbe gli stessi Viola, si? Ah, il Grupo, ma deve essere, è Viola, no? No, poi poi facciamo, facciamo i 1-8 e poi vediamo Oh, è il cingona, hai i soldi? Perdonatemi, ma questo non era quello che ti diceva che ti faccia maleare nelle gambe E' già che ci vuoi soldi Sì, sì Allora, vai con l'entristo, come te l'hai fatto è un colare No, voglio vedere come se le voglia Questa non c'è a fondo, quando ci vediamo Controlla sotto Qua non puoi passarla la roba, te la prendi e te la mangi diretta Non ci scolti E' che c'ho la MK2 Esatto Qua non è un rapimento Scherz Sì Mettilo sotto Bello, tutto un bello pieno ce l'ho adesso, ora andiamo dove cazzo volete Tutto un bello pieno, vieni Non vuole parlare, raga, con noi, non so Un bello marcialio, eh Braa Allora andrà a fare il giro grosso Dai ragazzi, io una mezzoletta, cosa sta Ah, e non lo fa, io ho capito Non l'ho mai visto, raga gioco la macchina si fa e devo devo ruolare quello che ho visto in rc non ho mai visto a casa con te che ti sapisco perchè appunto la testa dopo la macchina da tutta e bravo era ai dali chi è bravo fatto pure se sono più a mezzanotte alle 6 oltre a mangiare 6 ore ma cosa c'è il club? vai via c'è d'arco è sicuro perchè mi ha detto sto andando in un ghetto prima andiamo a casa all'118 sai ok si ma non è entrato ma non è entrato tutte le lutte che abbiamo fatto vai fa il giro dall'altra parte e allora portiamola a casa dai raga piuttosto se ce l'avete addosso se no lo perdiamo andiamo un attimo alle 844 a portarlo dai ci sta la macchina arancione dentro si si c'è qualcuno la dentro cosa vogliamo fare quindi? c'è qualcuno qua S possiamo assaltarli e prenderli che assaltarli? una persona io ti sentiamo con le pistole in mano li puntiamo solo eh quello ti asciugno andiamo a essere allora ragazzi se vai dentro puoi sparare senza non abbiamo un tiktok quindi puoi sparare senza lutter la strada ah non possiamo rapire ah non possiamo andare ma andatelo a parlare e fargli una proposta andiamo a parlare andiamo allora ma siamo in pochi non sai quanti ce l'è dentro ma intanto sovi c'è una macchina 3, 4, 5, 6, 7, 8 tutti vabbè andiamo tutti però non dentro è fuori entriamo tutti insieme senza armi mi raccomando in mano un po' come vuoi entrare con le mani alte di conto siamo davanti al panino di luci ok non puoi entrare fra attenzione un po' metto di allarme all'area portare le cose siamo davanti a 118 ragazzi abbiamo beccato per culo una macchina dentro quindi tanto ci fermiamo un attimo mani in alto a chiacchierare a vedere che cosa vogliono fare qualcuno è poveri ho avuto un problema di città cazzo c'è qualcuno? dobbiamo parlare c'è qualcuno? che dove sta macchina è avuta? c'è qualcuno? no c'è un'altra grigia è passata eh magari è sempre giù vai raga entriamo c'è qualcuno? c'è qualcuno? c'è qualcuno? vogliamo solo parlare come qua c'è qualcuno? semmo ma è qualcuno ragazzi semmo c'è qualcuno c'è nessuno? c'è qualcuno? aniu ultorni c'è qualcuno? qualcuno signori? siete dentro casa vuoko così non c'è nessuno non c'è nessuno perché c'era la macchina avevamo visto la macchina ancora c'era abbiamo il lutto non seguiamo la macchina era una miglia di passare a 10 allora andiamo a casa a posare questo loot mettete il gps ragazzi dai il mio smartphone ragazzi andiamo speriamo di non incontrare che te ne frega no no va bene perché comunque magari arriviamo là davanti e facciamo rompiamo il coglione alla scena che sta portando il grab a destra non va bene bisogna anche avere rispetto per gli altri una macchina di albre 844 l'aranciano era la macchina di albre Marco mezza città è al groove tanto il sub questo dimmi a casa a casa andiamo all'844 dai tanto non è il gran che no sono 5 pistole non ce li avete se per caso fermano dopo un'azione ce li avete lì mi piace il mio mesa che non è mio bello bello si dove l'hai ruota? eh davanti all'armeria molto bello non posso stare tante però che bello questo è il mesa 4 dovrebbe avere le ruote antiproiettili non è bravamente comunque non sono solo 5 pistole capo arrivati a casera eh casetta bella io devo essere assunto caposto e adesso vi passo una pistola perchè non voglio ottenerla ma non abbiamo più i blip lo sei assunto non sono assunto ora veniamo noi a lavorare te ne devi andare disoccupato grazie preca principe mi puoi assumere si perchè non si è assunto perchè mi hanno fatto quella brutta cosa capito? apposto grazie a tutti no no non me ne hanno ancora dati i soldi della pacifica ho perso il ticket adesso me lo devo me lo devo le fare che te ne frega di nuovo ma non vado a rovinare la scena degli altri Ah, no, vabbè Dammi un attimo, che cosa? E tu, le cose che c'è in macchina te le levo? E lasciagli solo una pistola e qualche pacco di munizioni che non si sa mai Vabbè, tanto ci sta documento errato, lascia tutto No, il radio, allora lascia una radio, un telefono, il documento me lo lasci Il telefono non c'è, il telefono non c'è Dove siete? C'è il radio, principe, mi senti da qua? Eh? Reggio, vuole che vuole nel rodi Oh, ragazzi, qui c'è il radio, porco due, mi sento un attimo Sì, ne, ti sentiamo Ok, dato che prima avete detto che dovevamo venire qua a Grugio Ok, io sono venuto qua perché ho avuto provvedi Passa a me, passa a me Qua ci sono i ragazzi di Grugio, solo che adesso hanno altre persone Mi sta, tra un po' mi dirà tra quanto sono liberi, se volete venire qua Ok, fatti dire tra quanto sono liberi, arriviamo Ma dai un'altra posizione Ragazzi, ci sono qua anche i blu comunque Eh, sono i blu Passato? Raffaello, scusami Lui, un attimo, chiudi Aspetta, ho due cellulare Siamo a calci, l'ancro ci abbiamo 86 Aspetta, no No, però tu non mi ha mai in casa Ok, quanto è scusami Che sei scusami Oh, c'è a posto Radio, cose, tutte cose posate, a posto E tu no Oh, per domenica, dimmi A mia mi fai un pirito A mia Stai fatto un pirito, ne tu Ma come ti permetti, pezzo di cagato A 70 anni ancora che ti fanno gli scorreggi in faccia E tu ma sti ragazzi Lascia stare Non c'è più rispetto Ah, dai, mettono una cosa Ah, non ci pensi Eh, mettono una cosa Quanto sei bello Eh, bene, stai a sto outfit Ti piace la mia cacchetta? Ah, io c'ho bello Ah, vaffanculo Ma io passo mi facevi complimenti A me facci tanto la tua maschera, ne tu no Ti piace? Eh, sì Questa è vero pilo, vero pilo originale Di scimmia vera Ragazzi, se la mia calore Quello sei Ah, spero, se la mia calore Tra le armi No Ragazzi, ve l'avete posata la modiglia Sopra sotto Prendo la macchina anch'io Vieni qua, te Dove sei? Qua, l'entrubato Ma mi vuoi leggere? Cioè, fra il super Ah, ma è vero, fra, ma è vero Perché cosa fa? Si può salire Ah, il problema è il tuo colpo Chi è che vuole guidarla? Io Vai Basta, 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 vado tutto da parte Ma voi siete ricchi con tutte le tanti, con la lomba Ma voi siete ricchi con tutte le tanti, con la lomba Ma perché lo sa solo? Aspetta, fermi, 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 guarda che mezzi è sopra con d'Archino, mi sa Ti stiamo lasciando qua Mesa che sei vuoto, torna dentro Che prendi mezzi è l'altro Vieni qua Vieni qua Vieni qua Non sei santo da la lomba Non ci siamo fatti Ma Ma Se mi chiede vuoto con l'arma riesce sotto Dentro l'Audi c'è un botto C'è 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 Vieni da un giorno, mi parla così, ti calma, io ti prendo e ti ammazzo Viena, viena sta macchina Quasi, quasi Sì, sì Sì, no, però prima mi ha detto, sto a terra nel resto A questo punto, vengono in tre, basta No, no, non dico questo, ma io la prima volta che sono venuto con voi E cosa sento, ragazzi, stanno facendo un comizio nella mia macchina, non sento niente Vabbè, basta Vieni da chi Andiamo, raga Allora, mi ha dato il suo numero per contattarlo Quando andiamo Comunque c'erano lì i blu E uno diceva che c'è un gruppo di persone che continua a rapirli Che li vogliono sottomettere Giusto E' giusto E' lo rosa quello Buonasera Antonio, buonasera bello Ma dovete me lo andare Sposta lì, davanti, sposta E' l'opera origine Non pittare dietro, c'è un motivo se non vado là Oh, vabbè Dove dobbiamo andare? Ma iniziamo ad andare verso la città Adesso decideremo, ragazzi, se andare dal gruppo anche noi Teatro ricco, mi cifico, andiamo a far all'inlin in mezzo Sì, infatti Iai, sì Passiamo, se no Ti streppo Ma andiamo un attimo a dire se possiamo averci Sì, sì Stai brutto così, eh Tanto Sì, infatti Quando vedi i Mercedes Ora mi poteva mettere la camicia Questa cazza Mercedes bianca Vuoi andare a cambiare? Ma quello è l'outfit perfetto Dai, se vuoi ti porto a cambiare Tanto siamo qua, non abbiamo niente da fare Se vuoi andare là Tanto facciamo per l'outfit agli altri Vai, vai Ragazzi, andiamo a cercare il resto di vestiti questa qua Ok, bro Ragazzi, tutti però in silenzio Parla con uno, altre volte due La parte di vestiti Ok Eh, la spacca dopo, eh Hai visto Alfa? Tutti insieme vestiti così È bella Sì, è bella Sì, è bella Adesso qua Mi piace il principe, l'ho fatto io Bravo, è bellissimo Ma dite i numeri quando siamo tutti quanti qui, però E chi? Che gli dice? La fondina giusta, la fondina giusta Eh Che estrae bene Eh, non so, mi ricordo qual è Ma dite la tua maschera Porca puttana Eh Prova a metterne altre Maschera, eh Dimmi quando sei pronto, principe Ah, beh, tu non te lo fai questo qua, non, giustamente 201 Cambio colore 165 Napo Fondina che estrae bene 165 Ok E questa è? No, 167 questa è Ok Salva 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 Outfit Bamboo Ok Vediamo Sì Sì, sì, pure tu, pure tu Alla vecchia Sembra mi ha fatto una giacca Ci siamo tutti qui Tutti in divisa Tutti in divisa Tutti in divisa Oh, funziona questa fondina Oh, ragazzi Allora, silenzio Ok Anche con la Uzi, raga, guardate Raga, silenzio Silenzio Ho chiesto silenzio Allora Iniziamo dal torso 4, 4, 1 Colore 8 Allora, mi voglio cambiare Ma non riesco a tro... Eh, vabbè, dai Mettiamoci così Ti scelto 15 C'è 30 Check radio Mi date un civico Per piacere 3, 4, 2, 1 Ma spacca il culo, questo Debo 2, 4, 7 Ma alla vecchiaia Io mi devo mettere queste cose Eh, sì, 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 metti tutto, metti tutto Un scarpe No, no, no 5 colore 7 Eh, no, 5 colore 7 No, 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 no Scusa, tu no, è un anziano È la maschera, carpe 5 colore 7 Non posso dire lo stesso Ma ho messo 17 Quanto mi piace, vorrei, Manoli Ho bruciato i bordi Eh, la vecchiaia Mi posso vedere che sta maschera Ti faccio brutta Eh, ma è bellissima Ma anche le volte, guardi No, è da me sto sempre operativo Con le pistole La maschera La maschera La maschera La maschera La maschera La maschera Che pare, se lo penso Va bene, così Ah, forse era meglio la maschera No, no, voglio quella di... Che schifo, quello zaino Voglio quella di Napro Voglio quella di Napro Oh, e do Allora, la mia maschera La volete tutti, la mia maschera 113 Col piano No, no, la mia maschera E' da 201 Ragazzi Chi è da voi Da me ha parlato Oh, raga Per favore possiamo prenderlo Bella eizzo Dove cazzo sei? Grazie per il like Mo'è mio Rita Giammar Chi sei Io Dania Edoardo Buonasera, cara Buonasera Come stai, Rita? A me non è il gruppo Penso che ora puoi Adesso vado, Dania Ci vestiamo solo un po' bene Io, io lo voglio 72, 72 Andiamo a prendere del cibo Ma vuole Dell'acqua Ma perché qua c'è un altro Vecito diverso Chi è? Ah, bu Dove ha aperto Prova a fare un bellino Cazzo Mi ha aperto il record E Allora andiamo lì un attimo Poi andiamo a prendere Lo frattano di tre della faccia Di trovare un po' bene Ma tu chi 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 Ma tu ti cos'hai bisogno? Di bere da mangiare Capito Vieni fuori Non ce l'ho Ma io non mi posso portare con questa maschera Comelo? Ok Sì Sì È bellissimo Sì Sì Ma mannaggia al cazzo C'è anche quello che dici È normale che io la vecchiaia Mi devo vestire così Certo Ma se mi vede mia mogliere Che deve dire? Come sei diventato? Ah ma che è brutta la maschera No la maschera La fatte più belle Madonna Che impressione Io c'ho vent'anni Che impressione che fa cazzo Così mi ci abitua È meglio lo mio Potrebbero esserci NTM invisibili Fefe No ma io mi devo mettere una giacca Mi sento a disagio così No Dai così che se balli Ti nevito Sei bellissimo Lascia di questo Mio fratello ti toglie la faccia Oh Sono fuori Uso questa maschera Perché ho i capelli Un po' di problemi Eh no ma non Ce la rubano la gang ragazzi Ma secondo te Jay è stato fermato Da INGM E va sotto di loro Chi sei tu? È vero che ho un'altra vita Ma la vedo due Mettete come noi cazzo Che ti metti qui Ma kappa Non lo so ragazzi Sparisce sempre Arrivo Lavo due chiatti E ci sono Ma è ribello È vero che non lo è Ma kappone dove è andato Non lo so Ma c'è la rossa Ma non lo sai Non lo so non l'ho più visto È sparito Del rapimento Da 906 Andai già a cazzo Non so 5 perché ne avesse bisogno Kappone ma sei da qualche parte kappone A qualcuno ha visto kappone No Signorina Come sta Madonna che brutta Ma tu sei in cesso E fai pure la film Mannaggia Cazzo Vabbè Vuoi fare una foto? Uno bello? Vai Potevo andare via Guarda Guarda che bello Guarda tuo marito Guarda che scappa Guarda Guarda che scappa la faccia Ragazzi io mi saluto Ci vediamo domani Ciao 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 Tutti è cambiato Perché stai così Ciao Poi ci vado a lavorare Ah Poi lavora Lavorare Lasciò una notte Poi ci vado Mannaggia cazzo Mi seguo sulle occhiette dai Mi raccomando ragazzi Felicchietti Buona pattuglia Maresciallo 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 ci prendi Ciao belli Ci vediamo troppo Pistole nella frendi Ciao 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 Allo mezzi Bene Bene Svegliati adesso Quanto sono belli Così regata La bellissima La famicia rossa Ecco No così è più Siamo più freschi Spera Ma poi Appena facciamo gli incontri Facciamo qualcosa Da almeno Maresciallo 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 Sì Belli Ma sempre Ma almeno Siamo organizzati Come sempre Mi senti Lo siamo anche organizzati Come sembriamo Ah no Così i vestiti E così Sembriamo organizzati Al primo impatto Capito Prima eravamo tutti mischiati Dio Beh facevano ridere Sembra Sì ma c'è anche Uno con una maschera da biscotto Che non so Eh Eh Samo Mi ha detto Che sta maschera Non ci può guardare Glielo ho detto Glielo vado a dire No dai poverino Gli piace È quello nuovo Eh C'è da chiarire un po Con lui Perché Cosa fanno Eh no È arrivato da ieri È quello che stavamo parlando In macchina È arrivato da ieri È già Boh Ma chi l'ha assunto poi raga Non lo so A chi A chi Fai un saltino Fai un saltino Samu No io no Io assunto un saltino Chi ti ha assunto a te Samu Chi ti ha assunto a Samu Eh Non lo so che mi ha assunto Aspettami Mi so Non sai il nome d'applicativo Come ci sei arrivato tu E sta famiglia Fammi capire Aspetta Mi ho chiamato Simo Simo Ciao ragazzi Che cazzo è Simo Simo Quell'amico di Gegé In Simono Ah ok Allora ha detto che Allora Raga quando è così Fatemi sapere anche a me Prima di far le cose Perché io non sapevo neanche Chi cazzo è Alfa mi ha assunto Alfa E mi ha richiamato A qualche minuto Oh ma stai fermo Ma che c'è Vederci Eh se mi chiamarlo a te Io ti lascio il suo numero No no Digli che è importante Devono lasciare tutto Quello che stanno a fare Devono venire Non hai vestito Eh ma mi sa che c'era il cartello È che non mi si addice Alla mia età Vestito sportivo Mi sentivo ridicolo Cos'è? Bianco con la camicia rossa Non vado bene C'ho pure il fazzoletto Nel taschino Comunque Diciamo che non sei tanto Lei è molto elegante Diciamo che A parte i pantaloni L'outfit Andiamo a giocare a bowling Let's go Ti farò che giocava a bowling Io se vuoi Ti esco la stecca E ti faccio interesse Le palle Portami la palligia In camera va Dai raga Andiamo a fare qualcosa Allora iniziamo Andiamo a comprare A mangiare e bere Va intanto Che dite Sì Ehm C'è una chiamata Vediamo se becco qualcuno Dove è che ha aperto Il record è aperto Mi pare Sì Andiamo Allora andiamo Se già lo sento Oh cazzo Pronto Scusami 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 Non mi distruggere la macchina Tu Simo, Matti, Luca, Salvatore Grazie per i like Ragazzi Pum 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 Vabbè Ma Mi ha buttato fuori No Nessuno Si è caduto Come sono caduto Sì Mi risiedo Mi ha menzicco Allora la cintura Così vedi Dove dobbiamo amare Eh non hai detto che il record era aperto Cos'era Il record Tranquillo la tua auto non avrà un craft Eh Ma chi dobbiamo seguire A record Dove è avere Oh ragà ma stai dando il record Ma regola per andare a mangiare e bere 3,6,5 Vai mettere il GPS Oh sparano Sparano al 3,9,0 Grazie Non mi fa la pazzia Sì arriva Oddio ma è andata da mangiarti Sì 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 È bella è sta macchina Molto Ci sono solo noi due in macchina Eh Come siamo solo noi due? Era un minuto di 12 prima Sì Eh ma stiamo facendo le cose sensuali da soli Eh Lancia il cazzo Dopo che ti ho visto stanotte fare cose strane Sì Sparo il parcheggiamo per bene Ecco 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 così Vamos Scendiamo la massa E mi fa scendere C'è la mototerra davanti al Mannaggia il cazzo Intorno al 200 ci sono sfide che si sparano Ma dove siete regalo? Vedete qua lì? Ah Chiama l'Armedia 200 fermi un attimo Perché non siete venuti a regalo? Ma perché l'auto è tutta scassata? Perché hanno deciso di fare questo io Quella moto la puoi levare dai coglioni se no non fa scendere Vai da prendere il cibo lì Eh Andavamo a regola a prendere il cibo e si ferma la distributore che costa il doppio GG Stiamo arrivando dai Ma Ah ma stavi guidando te Ma dov'è Flo? Ma che cazzo Ma no ma perché Ma tu cosa ma non eri tu che guidavi la mia macchina prima? Eh sì poi Flo l'ha rubata Ah era Flo in macchina con me? Io ero convinto che eri tu che avevi la stessa voce No no io guido bene Cioè Va cioè dai eh Allora comunque noi siamo una squadra di calcio mi raccomando Noi? Sì sì E io sono l'arbitro No te sei il capitano L'allenatore L'allenatore è il capitano Che vuoi essere Poi c'è alfa che l'arbitro Gli sono l'attaccante Meiz Quello che ci siamo incontrati da Tony Ti ricordo che c'io Sì 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 Quando sono andato a fare il giro con te Sì 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 Non fottete con me Vabbè Cazzo lui Cazzo lui Cazzo lui Non è il posto per fottere questo Allora signore ci puoi dare un po' da mangiare e bere? Questo non è un posto per fottere Eh Tonino hai scrittolo per bar? Sì però come Sì No 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 Caro dovrei dire Ah Amore non fate la guerra Tonino sta scrivendo? Sì sì Comunque era un po' con la musica per festeggiare qua No musica no Musica no Musica no Musica no Musica no Questa è una cosa che ti ho accanto Signore mi puoi dare da mangiare per 5-5 Iunico Foio Fier ha mangiato quattro per un milione Fai vai vai buia bia bia Chi raffa emotions Io meggi metti Un milione Sì si ripoi Fai partia tutta Di morganci Per quindici giorni sono abb abbobbiato Unesimo E non c'è bari Barista Mi rai Un' accused Bar-raio Però gli ho detto che almeno da pensare livestreami Mezzini Boccato du zij Garz elite contento ma la rete c'è la testa di caldo c'è il suo gruppo per una settimana quando è buonanotte a guardare per cortesia qui dentro che si fa non è vero buonasera signori ma se non è un buonanotte come stia va tutto bene però per il mio percorso io tutto bene per me è un po' bella che è troppo convosito ricordato reo e muovono il senso di roma questo bucato non lo so dove capa raga mia moglie allenatore cosa facciamo qua per la nostra squadretta di calcio ciao Carmen un abbraccio un abbraccio e un bacione per la nostra Carmen che ci segue dall'altra parte dello schermo ciao bellezza c'è l'ho da un bar un milione 33 da te a lui al massimo 2 e 2 gli devi dare allora fai 10 a 10 acaa o altra è una barba araba del 250 mila per la parte del caos uno del 2 numero di ricchi buca un bel tempo moreno di ecco l'albera no e 15 persone bravo appena visi libera al bancone per non c'è la prima tutto il testo a me numero 110 perché te so pagato io c'è l'open bar aprite le porte grazie ha offerto il signore qua un milione di open bar ragazzi 5 e 5 157 la giacca 132 5 5 132 5 5 prendono in giro marcolino prendere 147 147 marcolino prendendo in giro ora non si non non raga Raga, qua fuori è pieno di blu, è sicuro ci inseguono adesso, è pieno pieno Principe, mi devi aspettare un secondo, allora ho parlato con Jay Ok, e mi ha detto che stasera no perché c'è il casino, o domani però lui non c'è, domani sera Che cazzo vuol dire stasera no perché c'è il camisino, scusa Perché adesso tra 5-10 minuti ha detto che chiude gli occhi ed ha avuto il via vai fino adesso, non ha avuto tempo di far niente A meno che non puoi andare e andiamo alla volta Aspetta bravo, è qua c'è Buonasera signore Buonasera scaro Io buonasera, come va, tutto bene? Tutto bene, tutto bene, e lei? Bene Bene, siamo passati a vedere se il locale necessitava qualche rifornimento Ah già, che lei è signore dell'import? Sì Sì, sì, sì Piacere, piacere Bene Mascara rossa Mascara rossa Ci vediamo ragazzi C'è l'ho con te C'è l'ho con te Innanzitutto stai mancando di rispetto locale che non è il tuo, con la gente che non conosci Hai atterrato una persona che non sai neanche chi cazzo è E ti sei fatto che hai dato la zappa sul piede da solo Perché manca di rispetto in città Sei una persona che sveglia Ma non sai sbagliarlo di grosso Dobbiamo cenare un minore Andiamo ragazzi Almeno chiedi scusa Almeno chiedi scusa e basta E finisce il discorso Ma ti devo chiedere scusa Ma ascolta 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 Ti sono pagato un milione Ti sono pagato un milione Voglio a dare quello che mi serve per la coltellata e basta Andiamo No, non è questo di soldi, raga Ma che soldi Ma che soldi No, ma qua ho sentito parlare C'è la crescita Rispetto Non sai chi siamo E' un mio amico per terra Sì, ma la calma La virtù dei forzi Ah, appunto Nessuno sa chi ha nessuno Chi è l'altro che è davanti Quindi C'è sempre un po' di educazione Vabbè, vabbè Mamma mia, guarda che cazzo Signore, il mio è un discorso di amicizia Ci mancherebbe Non era per aizzare Anzi, assolutamente Era per tutto il contrario No, no Allora Io vorrei appunto Prendere le ragazze Se lo prendo dalle orecchie Tutti quelli fuori E gli faccio il cazzatore Però ho fatto in quella maniera lì Ok E lì ho sentito E lì è autorizzato A fare il cazzatore Il signore Ci mancherebbe Non so chi sia lo visto Il signore Che ha atterrato un amico E mi sono permesso di dire così Tutto qua Ok Comunque Non volevo manca di rispetto Comunque E' una calamita Con me Lo scudo Ma non è lo scudo Questo Ma non è lo scudo E' apposta così Un solo Sento Ci organizziamo incontro ora Ok Chiamo so Signore Natino Ok Gli dica Che ci incontreremo Mi faccio a pensare un posto Se vuole noi siamo al record Stiamo aprendendo da mangiare bene Solo che siamo senza maschera Al record no Signore Troppo in città Al telefono? Sì Ok Incontriamoci Al 10.52 10.52 Non ci dovrebbe essere un cazzo 10.53 Ok Adesso lo chiamo E gli dico di venire lì Ok A tra poco Tutto a posto? Ricordati 10.52 tu 10.52 E dove dobbiamo andare? C'è le corde basse? Sì Sì Bastesse Io l'ho detto che Le facevo da bodyguard Perché si è in guerra Bello Non lo posso lasciare da sola Bravo Da solo Scusi Da punta a pe Bravo Così che si Oh ma Dobbiamo aspettare L'allenatore Ragazzi Dai Eh Se l'allenatore è qua dentro Qua dentro Non si può fare niente Che bello Vembare da un milione Mo' per un mese Quanto Salve signore Ci siamo visti prima al molo Buonasera Ci siamo visti prima al molo Ricorda Il signore vuole vederci al civico 10.52 adesso Stiamo arrivando Ci vediamo lì Arrivederci Ok Ok Certo Il numeretto? Ma? Ma è 5.5 Non lo fanno alle volme C'è ancora dentro Andiamo a group Andiamo a group No 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 Andiamo adesso al 10.52 A parlare con chi di dovere Vai Ok Ok 152 10.52 10.52 Ok Arriva Aspettatemi fuori Mi sto pensando Pensando Ormai ha capito Roberta Mi scrivi i civici Siamo aspettati fuori Eri tutti in macchina Ma che ne è tu Non andiamo Lo do io? Sì sì Ti esci fuori Sto uscendo Guardate con un attimo Guardate che sei vecchio Però No aspetta Sali nel posto di guidatore Apri questo del posto di guidatore Poi Lo do io Signore 10.52 Ragazzi non mi fate sentire mai niente Impazzisco Cosa dobbiamo aspettare Eh ragazzi Che l'allenatore Vai Andiamo Ti fa salire adesso Madonna che cesso Devi proprio salire La sfacco adesso Andiamo dai E non sale Rimane a metà Che cazzo Non devo dire Apri chiudi Di nuovo Ok Oh ma che cazzo vuole Guarda si richiude Fai così Sali E con M Cambia posto Cambia posto con M Ok ci siamo Ok ci siamo Ok ci siamo Ragazzi tutti insieme Mi raccomando Siamo già partiti Sì Arrivo io Sto andando adesso Davanti alla polizia Non davanti al Aggiù Vado 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 Pronto Allora signore Noi stiamo 10.53 Ma c'era un punto La staremo di avanti Ma beh è arrivato 10.53 Ah io gli ho detto 10.52 Al signore Mi aveva detto 10.52 10.52 Ok quando arrivo lì La devo chiamare Ok perfetto Ma tra poco Non hai messo il gps Seguendo loro Loro l'hanno messo Quindi si rincia Stiamo arrivando al 1.52 Ragazzi si Non è un Un campo Un campo Un campo Un campo di droga Oh ma ha detto 10.52 10.53 Al telefono Quell'altro Sbagliato? Beh è un campo 10.53 Un campo Non è che ci vogliono Tirare Ma no Ma è il cartello Ragazzi Come l'ha detto Allora Vengono anche i blu Quindi non gli sparate Certo che se lo possano ricordare Ragazzi Gli ho lasciati vivi apposta Io ho chiamato Darko davanti E l'ho chiamato io Adesso per venire lì Ah che erano a Capanderra prima No No noi devo andare Che ci abbiamo parlato dopo Che erano a Capanderra Li abbiamo rianimate E ci abbiamo parlato Quindi E io ho detto Noi continuiamo a prendervi Perché ce l'hanno detto Di farlo No Ti vediamo No quello con la giacca della Napa Piri Blu Non era Non è dei blu Eh 10.52 Ma ancora dovete andare voi Bella Massimo Mariano Gianluca Andrea Timo Massi Grazie per i like ragazzi Quanti siamo Quanti siamo Quanti siamo Quanti siamo 79 like Che ti rimandiamo Scemo Come se non ci fosse Un domani Amore miei Dai 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 Che ne mancano 21 Per i 100 Su 21 like Siamo in 34 Uno a testa Lo superiamo già adesso Stiamo andando dritte È un campo Però vabbè Così va bene Allora Ma come Oh regà Statene tutti attenti Che è un campo Quindi anche per Allora Quando arriviamo lì vicino Devo chiamare Aspetti Aspettate che mi chiamano Fermi eh Ho un po' di occhietto Fermi 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 Non siamo qui eh Eh stiamo arrivando anche noi guardi Ma Non era un campo qua Adesso io sono Vabbè Arriviamo anche noi Ma ha detto Quando arriviamo là Di chiamarlo Che viene a prenderci Penso che sia Nell'indolta di fronte Penso che sarà una pazzia Se qualcuno viene adesso Sui campi Quindi non ti preoccupi Ok scendiamo Scendiamo Arriviamo Dai scendiamo Ragazzi Scendiamo Ok Scendiamo Scendiamo Ci sono già anche loro Sotto Sti cazzi Se viene qualcuno Siamo noi e loro Lì atterriamo Cazzi loro Ma è questa strada Io non posso andare con questo veicolo Cioè Eh siamo una barcata Siamo noi e loro Cioè questo veicolo Eh io penso 20 forse Eh ma questo è un campo droga Eh comunque signore Vabbè lo difendiamo Vabbè Aspettiamo qui Vabbè Scusa ma perché stavano sto con le pistole questi Eh fai lì stare come cazzo Vogliono tanto Eh no Visto che stanno anche loro con le armi in mano Mettetevi con le armi in mano Tanto Ma che stai diventando Ragazzi togliete le armi Non serve a niente Le avevate già voi signore Le armi Non serve a niente Eh vabbè Non serve Non serve Via le armi Via le armi Stai arrivando il signore Ecco ragazzi Che cazzo è tenere di ora 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 Che cazzo è tenere di quanto due E' arriva lui e adesso Come ha detto E io l'ho detto Sì ma guardi che questo è un campo droga Mi fa Sì ma abbiamo capito anche noi Solo che saranno dei pazzi A scendere in credito Vogliono fare qualcosa di dolore Eh Sì ma anche noi Con tutti i civici Che ci sono Ma una giacazza Proprio in campo droga Eh se non mi hai Se non mi hai Dimenticato Eh E niente adesso Arriva Facciamo sta chiacchierare Va bene Mi avviso appena Sono lì vicino Ragazzi tutti quelli che arrivano Mi collino eh però Perché qua siamo Non posso che Dobbiamo sapere chi arriva Vabbè ma tanto Quando vedi arrivare il più bello E quello che sa guidare meglio Quello che sono io Capito Ok Quello che è già arrivato E' ancora un campo questo ragazzi Sì 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 L'ho appena visto Processo Maria Oh non parla male Della mia maglietta Che c'è il suo di maglietta Hai capito Che c'è il suo di maglietta Vabbè sono milioni di stile Signore sono milioni di stile Dai Sono vecchi di stile Mi sa che sono arrivati Ma quello che è panno Quei zambi mi chiamano boomer Oh casi Ragazzi Mi consiglio di spostarvi Pure a voi Eh che io so pazzo Fra Eh qua ci uccidono tutti Siamo morti Dopo l'ultima volta Ho visto un video Su Facebook Vedi non hanno rispetto Dei vecchi No Chiamarti uomo Con esperienza Oh sono io in moto eh Maschera C'era Come Oh cazzo Oh 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 Ma lo fanno poco cesso No No Ma lo fanno poco cesso No Visto che Ci siamo messi al simbolo signore Eh ma infatti perché ci siamo visti qua Perché hanno riempito di cose Non so più dove cazzo Vedere No no Fate indietro Facciamo due gruppi Per favore Sì Vogliamo andare sul pontile signore Preferisce Dove che Non sentiamo tutti Ok Vabbè Allora noi ci mettiamo a destra Solo dirà Ok Sì 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 Ragazzi tutti a destra Dietro di me Mi hai messi bene per favore Dietro raga dietro Una fila dritta Toi Dietro Una fila dritta Dietro dai Chi è su quella moto? È uno dei miei Chi è? Eh non c'ho avanza Ma che sei il boss? Ok Chiedela basta Mamma Allontanata Allontanata Allora signore Alla signore Prima mi ha parlato al telefono Ma non ho capito un cazzo Mi diceva del signore Allora signore Eh Questo signore qua Sì Il vestito di blu Sai che lei mi ha dato un consiglio Di vedere un pochino Se c'erano dei blu in città disposti Sì A lavorare sotto di noi O comunque A lavorare Sì io l'ho dato anche al signore Alve Giusto Esatto E anche al signor A Esatto Ieri sera Abbiamo preso questo signore Io il signor A E ci ha detto che comunque Lui aveva le sue priorità Nel senso lui lavora così Ma non ha voglia di stare sotto nessuno Allora Al che pensavo che ci fossero Un altro gruppo di blu Oggi girando la città C'erano degli altri blu Li riprendiamo E purtroppo Arranno di nuovo loro Quindi le ho chiamate per dire Ma signore Ma ci sono Più blu Oppure Sotto il vostro consiglio Magari il signore non sa nulla Non so io Che lei Vuole che comunque tutti lavorano sotto qualcuno No in realtà Io se posso dire una cosa signore Prima che lei intervenga nella discussione Prima di tutto Diciamo che La discussione va avanti In due posizioni La prima posizione È che il signore qui Mi ha detto Che i piani alti Hanno detto il nostro colore Hanno detto il nostro gruppo Sì Non gli ho detto dove abitare E allora facciamo Facciamo un'altra cosa No signore No ma non le spiegavo perché Porca puttana No 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 Tanto l'ho già visto Ah ok ok Lei mi conosce giusto Sì la conosco Lei sa cosa ho fatto per questa città Sa cosa ho fatto per le strade E sa cosa sono capace di fare Per questo ho consigliato a voi Ieri i signori mi hanno detto Ma tu non vuoi mirare in alto eccetera eccetera Purtroppo i signori non mi conoscono Li ho fatti parlare perché Non sapendo le circostanze Ho fatto finta di niente Oggi poi quando hanno detto Che i piani alti Hanno dato questo comando Era mio desiderio Dire a questo signore Di farle contattare Così magari i signori qui davanti Cioè i signori alla mia destra Capiranno Che quando devono vedere sto colore Con tutto rispetto Meglio non fare affare insieme Me l'ha detto lui però di fare affare insieme Assolutamente Lei non mi conosce Ieri mi ha rapito Io non ho detto nulla Oggi mi ha rirapito Ma il mio scopo non è Interrogare con qualcuno del suo livello Perché Come ben sa il signore è qui davanti a me I livelli alti ci sono stati Quando uno poi si mette in pensione E incomincia a crearsi una piccola famiglia E non vuole essere tutti i coglioni Le posso assicurare signore A lei ovviamente Che prima di venire qui Mi sono fatto un giretto per la città E tanta gente scontenta Di un gruppo di persone Che chiede Di lavorare per loro Quindi Lei è il primo a cui l'ho chiesto signore Cosa? Lei è il primo a cui l'ho chiesto Ah E allora c'è un altro gruppo di persone Che cerca anche loro Un gruppo di persone E non siamo noi Noi sotto l'ordine del signore Ieri abbiamo cercato direttamente voi Queste persone sono parecchie incazzate Io le ho calmate Dicendo Allora Le ho dato il suo contatto Le ho dato il suo gruppo Perché C'è una motivazione Non le ho dato il suo gruppo Per lavorare Chissà che cosa Perché Ci potrebbe essere una guerra Sì E lei sa che io la guerra La posso combattere da solo con i miei Giusto? Purtroppo ne rimarrebbe fuori Perché sono due Cose separate E allora ho capito E allora ho capito Con chi guerra stiamo parlando Dopo il mio viaggio signore Ok Una famiglia mi ha contattato Una famiglia dei livelli alti Penso Poi non so Ci sono andato a parlare E diciamo che Facciamo un po' di affari insieme Io aiuto loro E loro aiutano me Un'altra famiglia ancora mi ha contattato E stanno aspettando Un incontro con lui Io adesso devo semplicemente capire Chi è che sta contro di lei E sa benissimo che li porto la testa No, non contro di me nessuno signore Al momento nessuno sta contro di me Il problema è che Buonasera Salvatore Grazie per le like Salvatore Ma sì, grazie per la condivisione Amore mio, grazie mille Dico grazie per il like Sì Glielo posso far capire Non glielo posso dire dire direttamente Ma anche loro sanno Queste distinzioni prevedono Un'ascissione totale A due gruppi enormi E allora ho consigliato loro Ieri Di cominciare a trovarsi gente Che comunque possa affronteggiare Determinate situazioni E siccome a voi vi vedo spesso In città Amate molto la città in sé per sé Aspettino Beh la salvo Diciamo sempre di far mettere l'equilibrio in città Di chi è quel ciponella? Siccome molto probabilmente Ci sarà proprio una scissione Tra città e fuori città E allora ho detto Provate a contattare la gente Che non sta ancora con nessuno E vedete se riuscite A portarli a vostro favore Per combattere magari una guerra Per il vostro territorio Che potrebbe essere la città stessa Le posso dire una cosa signore? Però attenzione signore R Lei è libero di scegliere Come fare della sua vita Con chi stare Non siamo di certo noi a dovervelo dire È quello che io ho detto anch'io Il mio rapimento è stato semplicemente Per capire loro se avevano qualcuno sopra Lui mi ha detto che non avevano nessuno Non lavoravano con nessuno Anche se era puntato da armi e tutto E va bene così Si vede che lui ha scelto la sua strada Signore ovviamente Visto che lei non mi conosceva È normale che io ho negato tutto Solo uno stupido poteva accettare Quello che lei diceva Erano offerte di lavoro Se uno non aveva del lavoro Lei ha ribadito adesso Che da puntato Ho negato tutte le vostre domande Certo Le ripeto Se lei avesse almeno un minimo Di conoscenza delle persone che sono io Avrebbe avuto ragione Ma visto che lei non sa con chi sta parlando Non sa niente di me Ho negato tutto Addirittura che dormo sotto un ponte Assolutamente Lei non sapeva che io avevo il commercio Della Blue Sky Sono stato io a metterla prima in città Lei non sapeva tante determinate cose Lei non sapeva nulla di me E' per questo che l'abbiamo lasciato libero No? No, la sto legando proprio a questo Allora io l'ho chiesto perché C'è questo commercio comunque Da parte del loro gruppo Non proprio diretto di loro Ma di chi sta con loro Assolutamente Allora signore Ho cercato di legare un po' le cose Niente di più E voglio semplicemente dire una cosa Diciamo che noi abbiamo legato Con vari gruppi in questa città E le posso assicurare Al 150% Che questi gruppi Non lavorerà per nessuno Per questi Per questa Sia per questa famiglia Che per le altre famiglie Che stanno cercando altri addetti Non è sotto mio ordine E' semplicemente che Come lei capisce E lei sa bene Perché lei viene Ha fatto anche lei Una storia per arrivare Dove è arrivato Quando uno parla Con una persona di strada Se vuole parlare Deve parlare con rispetto E una persona che viene vicino a lei E gli dice Lei non può rifiutare Perché prima o poi Deve lavorare per qualcuno Non so se riesce a capire In teoria è così Perché di solito Gente di strada Tra virgolette Comunque Deveva cambiare soldi Assolutamente E io ho offerto a tutti La mia amicizia Perché lei sa Ah perfetto Lei ha fatto proprio Un altro tipo di ragionamento Ok Assolutamente Ok ok certo Ovvio Ho semplicemente Ravvicinato tutti i ghetti Della città E ho semplicemente Dito Noi non siamo alleati Siamo semplicemente amici E se vi servono favori Renatino è a disposizione vostra Bene Ah posso Bene bene Mi comincia a piacere Questa idea Mi sta venendo Già tutta in mente Eh il fatto è che Purtroppo Non abbiamo avuto più Modo di parlare Parlare Per il modo Per il modo che la scheda Eccetera eccetera Ma io la volevo avvertire L'altro ieri Ci siamo scambiati i numeri Il giorno dopo Non avevo più Ma non me ne frega un cazzo Io a me dispiace tantissimo Perché la volevo parlare Già da due tre giorni Su questa cosa qui Poi diciamo che L'avvenimento Fortunatamente Si sono presentati loro Riccardo Grazie E fortunatamente Mi hanno riportato da lei Per l'ennesima volta Che ci allontaniamo Ragazzi Bene bene Le volevo presentare Un gruppo Se è possibile Sì Se avete tempo Ovviamente Se i signori Diciamo hanno finito Con tutto rispetto E ti do umilmente Venia Se possiamo rimanere noi E vi presento questo gruppo Sempre se non vi ho finito Assolutamente Assolutamente Noi signori abbiamo finito La mia proposta L'ha sentita Lei si è schiarata già Da un'altra parte Quindi No secondo me Secondo me Signora Principe Non si è schierato proprio Da nessuna delle tue Esatto Non hai capito Agli altri ha detto Renatino a disposizione A me mi ha detto Che con me non vuole lavorare Mi pare che è chiara la cosa Io vado dai piani bassi No Non ha parlato con quelli alti No 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 Con quelli di cui Pensa lei Io ho parlato in generale Io ho parlato sia Con i piani bassi Che con i piani intermedi Ciao 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 Io ho detto Per qualsiasi cosa Renatino non lavora Per nessuno Renatino Dà una mano A chi vuole una mano Renatino è troppo forte E noi ci ha detto Che però Con noi non vuole lavorare Giusto Lei ha detto Che io devo lavorare per lei Se lei fosse venuto da me A dire Vuoi collaborare con me Perché mi serve una mano L'atteggiamento era diverso Non so se rendo l'idea Sì Lavorare per uno È un conto E dare una mano A qualcuno È un altro Signore Il mio approccio Con la città È sempre stato diverso Ok L'importante è Basta che ci siamo conosciuti Io non le ho mancato di rispetto E penso che nemmeno lei A parte quelle due altre persone Hanno mancato di rispetto Siamo tra uomini di donore signore Assolutamente Non è il caso Perfetto Ok Va bene La ringrazio signor principe Del suo tempo Grazie a lei signore Mi saluti il signore Vabbè Non ci sono problemi Comunque siete abbastanza Come si dice Forti come gruppi Sì Ma non c'è problema signore Poi le cose si fanno Voi le sapete fare In altro modo Eh Fai vor Non c'è nessun problema signore Noi si Non abbiamo mai chiesto Aiuto Di collaborazione Perché comunque No sì ma infatti Voi non c'entrate niente Ero io che non conoscendo La situazione Vi ho mandato Dai gruppi Che avevo visto Due o tre giorni in città Che non stavano Lavorando per nessuno Allora ho detto Come cassa È possibile Che famiglie Non hanno messo a lavorare I gruppi nuovi E invece Ho scoperto anche oggi Tramite altre ghie Che comunque stanno lavorando Perfetto Ok Allora noi andiamo signore La lasciamo col signore La ringrazio signore Arrivederci Arrivederci ragazzi Buona serata Buona serata Buona serata Buona serata Ma chi ci crede sia Ragazzi Ma la faccio Signore mi passo per me Io riesco a fare tutto Da solo col mio gruppo Principe Principe Ma due di noi tre Possiamo rimanere qua Magari a vedere Da lontano lontano Che il gruppo Che collabora con loro Sì Cioè se ne interessa No raga Mi servono due Tre di voi Non di più Che dobbiamo rimanere qua Che dire che Cosa? Cosa? Oia McLaren McLaren Dove vai Con quel Mercedes Oh io questi veramente Ti lascio la macchina Non ce la faccio con questa Non buona grazie Oh Chi viene in macchina con mare qua? Ragazzi Ci troviamo Il nome C'è un po' C'è un po' Che cosa ti ho detto Salve principio Le sono mancato Buonasera Buonasera Tranquillo Con gli altri Aguile Adia Adia E' pieno di fake pilot In questa città Sì Sa che hanno provato A rapirmi Adesso adesso Ma mi hanno lasciato andare Quando ho detto il mio nome Il mio cognome Non so il perché Chi ti ha rapito? Eh Ero lì un attimino Al distributore Facendo benzina Si è affiancata una macchina E nulla Mi ha Mi ha prima puntato una pistola Poi mi ha chiesto direttamente lì Come mi chiamavo Dopo che gli ho parlato Perché avevo un po' la gola secca E nulla Ce ne sono andati Ma chi erano? Come erano vestiti? Ma no 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 Accento spagnolo Non Vestiti casual Casual E chi cazzo sono questi? Madonna Ma qua c'è gente nuova In tutti i momenti Comunque È stranissima La cosa che ho detto Non mi cognome Così abbiamo deciso Di lasciarmi andare Vabbè lo ringraziato Ho augurato una buona serata Me ne sono andato Noi andiamo raga Noi ragazzi Ma perché dire queste cose? Ma a me che cazzo Me ne ho parlato L'avete visto Ogni volta che lo abbiamo incontrato L'abbiamo buttato giù Ma che cazzo Ma nulla di cazzo Io tanto comunque Non mi sarei fidato 100-100 Averlo con me Capito? Perché magari faceva poi affare con gli altri Mi snicciava durante qualche incontro Meglio così Io dovevo chiederglielo Perché il cartello lo voleva L'ho fatto Adesso Che vado all'inculo Ma quindi qualcuno è rimasto al fiare? Sì sì Spiega il rimasto Napo sicuro Gli altri non lo so Eh io sto cercando Delle persone che vengono con me Ma sono da solo Comunque io Ragazzi Due persone vadano Ad aiutare Napo subito Non fatevi vedere Ma voi dove state andando Un attimo in barrozzeria Se si può Ho bisogno di cibo e acqua Stiamo andando un attimo in barrozzeria Programmini per stasera? L'accompagno a letto stasera Io lo dico Ma volevo andare a parlare Con i violani Lì al gruppo Però Aspetta Sai che al 118 c'è gente? Perché io ieri Mi sono addormentato In mezzo ai maiali Lì in macelleria Quindi sono uscito Ho preso una macchina E quando stavano andando Di sequestro Capito La strada era quella E al 118 C'erano due macchine Furie dai cancello Adesso poi chiamerò Di nuovo d'arco Eh no Dobbiamo andare a parlare Anche con loro Ah ok ok È bello che la gang Dovrebbe farsi Siamo in questi signori In blu Sbaglio Sono arrivato un attimo Ma uno mi sembrava Quello di ieri sera Sbagliato? Eh? Sbagliato? O uno di quelli che c'era Mi sembrava Quello Uno di quelli di ieri sera Sì L'abbiamo ripreso stasera Qua Sì sì Adesso andiamo anche a parlare Con quelli dei cruise Ci sono Dove stanno tutti? Non lo so Non lo so Non lo so Bello l'interno bianco Come? Bello l'interno bianco cazzo puliti e puliti facendo quello che c'è chiesto al cartello sai cosa gli dovevi dire al cartello però a parte a solo quando loro non c'erano del discorso che loro hanno detto che vendono armi no ha detto abbiamo tante armi se ve le possiamo vendere ma quelle sono facchionate che fa lui ma ma si ma hai visto come fa a prendere le armi oggi prima abbiamo abbiamo attaccato il salario di a terra lui vuole combattersi le guerre da solo padre pio sembra ma tutte le volte amm e ci incontrava cavander dai ma di cosa stiamo parlando ma meglio che si leva dei coglioni fidati di me e poi alla fine magari non ci potevamo fidare magari ci si diceva in qualche incontro a forse l'ha chiesto il cartello e noi l'abbiamo fatto una volta che ce l'avevamo davanti lui ha dichiarato di essere dall'altra parte o di dare una mano quello che ha detto se ne fatti quello che ha detto minchia ma come cazzo fai da una mano un bocca a tutti c'è ma che significa ma infatti oggi ti ingaggio io contro di lui poi domani di contro lui contro di me un mare di inghiare ha detto e basta quindi ovviamente non ha senso ma secondo me pure il cartello di doveva migliorare piante a buonasera a tutti anche la prima volta che la madre della sera ho tagliato cambiato taglio no è bellissimo ben giusto mio si è me sono levato la tinta me moghere mi disse che sembravo troppo picciotto ma invece così lo sa che all'aria proprio me è giusto ma attenti si sta riaprendo la fontanella invece ehi già nascondo l'auto a lui si sta riaprendo la fontanella vero? la fontana? dove? a lui la fontanella è in mezzo alla testa la vedete abbassa la testa una botta in testa che piglia questo? ma che come nasta in mezzo alla testa? sembra un malone gli si sta riaprendo la fontanella ma vero eh ma come mai? poco g io penso che i troppi misteri a me non mi piacciono poi il cartello ha sempre detto che non volevo parlare con la gente terra terra con gli scappati di casa e poi il ritorno ci fa fare fermiamo il cartello? no 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 io fermiamo il cartello ma almeno voglio capire tu hai capito qualcosa fammi capire questo voglio che c'è da capire? è stato così chiaro lui praticamente è un gruppo a parte un gruppo a parte fa la blue sky fa i cazzi suoi e intanto se le gang hanno bisogno di una mano lui le aiuta così ha detto ma comunque non me ne frega un cazzo perché io sono convinto che è un bene per noi va bene l'ordine ce l'ha dato il cartello di prendere loro e parlare con loro noi li abbiamo presi ci abbiamo parlato davanti al cartello hanno detto che comunque hanno già i cazzi loro finché ce n'è non abbiamo disubbendito l'ordine del cartello e ce li siamo levati dei coglioni perché comunque averli con noi poteva comportare sempre una snitchata all'ultimo chissà che cosa perché comunque di quella persona lì io non mi fido quindi ma manco io uno che è questo idonico soprattutto con una famiglia quindi po' no voi non sapevate niente di me l'abbiamo preso sotto casa l'abbiamo preso mi aveva il coraggio di parlare pure cioè hai capito quel tono a me mi irrita va bene dai meglio così meglio così sappiamo che non è il nostro amico io alzo le mani lo sai quando è quello che dice mio cugino lo si fa però io avevi dato un colpo in testo subito non era rispettoso per niente non era rispettoso dagli un colpo in testo davanti a quelli ah ma manco a lui come parlava con mio cugino e vabbè non ti preoccupare infatti sembrava quasi ce l'avessi proprio con lui infatti lo soffre parecchio lo soffre parecchio eh ma così ma così si vede portata la visione si vede basta guardarsi questi film mi avete messo in un panino tutti a capandolo secondo voi se riusciamo a prendere sti viola del gruppo noi viola arancioni possiamo avere rivali qua dentro ma ne hai sentito che hai detto che gli altri gruppetti pure non vogliono sapere niente eh ma mi ci pulisco i piedi con gli altri gruppetti beh a questo punto sarebbe meglio un punto esclamativo che l'interrogativo meglio non avere rivali quindi pigliamo ma che ti dice il cervello che spacchio ti dice il cervello affanculo porca miseria il faro la testa mi hai spaccato cornuccia moza è fatto crescere un'unicorno al contrario un'unicorno al contrario vai a dire ma noia un'unicorno al contrario adesso tutti sapete che ne vai mi spaccaste la testa un pernoccolo ma me fatto esatto lo sappiamo è già adesso che bravo grazie 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 andate e controllate in giro tutto lo devo controllare se ammica dei poliziotti andremo a sempre le motivazioni adesso all'armeria un paio di motivazioni come non ci sa nessuno ma porca puttana rimasti due molto per andata quello che dovremmo fare sarebbe andare a sto cazzo i 118 e al gruppo a vedere se riusciamo a prenderci un'altra cosa QG posso andare a vedere se ci sta quel direttore del galaxy e te lo porto appunto e ci parli vediamo se questo c'è questo screen sul cellulare questo messaggio che ci hanno mandato procuratore ma quella è una cosa da fuori non è una cosa da dentro a proposito del direttore del galaxy mi ricordate quando mi hanno rapito i lupacchiotti c'era il direttore del galaxy in mezzo perché perché un lupacchiotto mi ha confessato che avevano parlato con quello del galaxy per mettermi in disparte per poi prendermi per poi fare qualche cosa e ora non so se lui lo aveva capito bene se era complice o non era complice però si mescava in mezzo e quindi non lo so qualche orecchio glielo dobbiamo tirare che dite si però diciamo che non puoi fargli niente c'hai capito si gli puoi spiegare questa cosa ci parliamo è in baranzeria ma tu sei ma tu sei il bello dei pezzi più piatto magari si è associato con i lupacchiotti capiamo pure che fine hanno fatto perché sono spariti da lì sopra da 4001 è bastato andarci due volte sono spariti capito dobbiamo capire dove stanno ma con la migliore questo visto che ci ha collaborato qualcosa la sa 410k si si ma in pratica noi dobbiamo difendere la città e loro dobbiamo attaccare la città lei lei proprio lei quattro posti come cazzo si chiama aiutami me la fai provare se ce l'hai la camaro no ma che camaro quella che si assomiglia si si esatto che dobbiamo fare noi questo ma 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 tu dove sei scusa e stiamo spiando stiamo spiando non è arrivato ancora nessuno no non è arrivato ancora nessuno non ce l'ho ma ne volevamo cioè ne volevo prendere uno o due per noi non mi ricordo come si chiama in questo momento se vuoi uno la prendo io se stai amici che buona è ottima è ottima che te sei un guidatore della madonna come me i stelle chi nasce dimmi che stai scoppiando tutto lì no no quelli sono i fuochi pirotecnici che lui acquista per attirare la gente comunque principe se vuoi vedere noi siamo nella ferrovia sopra sopra il passaggio che è quella della linea grigia che fa che è questo ah è lui state ben nascosti ragazzi se vi prendono lì è un casino e allora ci andiamo a fare questo giro con Jay cosa facciamo e ci andiamo a casa adesso e se non c'è e non c'è lì nessuno c'è mi ha già detto la vacca ma dove scusa se vuoi lo richiamo io va mi dissocio da S che sparisce così devo chiamarlo oh Gillo ma come si affreste se non ti va bene faccia il cazzo tu in pratica dovete guardarvi bene dagli NGM immortali gialli e non te e voi siete in città gli altri sono al nord perché è questa con la giacchetta bianca esatto esatto proprio così ah mi ha cambiato il taglio di capello si mi sono levato ma l'indurro si si lo zio e tu la disse andiamo a tagliare tutti i capelli andiamo a tagliare i capelli si andiamo 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 e mi tagliare il melone ma lui è la ola non è che hai sentito però ragazzi quindi ci sei in radio ci sei in radio oi oi ci sei in radio beccati beccati non è vero scusa a chi ne beccati a chi ne beccati a chi ne beccati a loro tre e ne ne facciamo stacchina beccati che ha acceso a chi ne è beccati se è staccato tutto bene tutto bene non ce l'ho visto e perché scappate se non vi hanno visto eh boh per sicurezza perché non è arrivato nessuno in blu se ne stava la mamma in pratica ah ok quindi è vero non collaborano con nessuno questi allora magari non erano in città no non è arrivato nessuno no allora quelli lì prima li ho visti di Agroobass che parlavano con quelli di Groove e gli riferivano a quella cosa che ti ha detto anche Dick nel senso che c'è qualcuno che continua a rapirli e che pretendono che lavorino sotto io non so che rapporto abbiano con loro se le piccole cose vorrei parlare con Jay e capire cosa ti ha detto realmente io sto Jay non lo conosco capito ci voglio parlare ma non lo trovo no proviamo ad andare là vedersi c'è di qualcuno dopo o domani o meglio sabato sera che c'è anche Jay e non ci sono io eh Gesù perché siamo bisogno di andare domani e ci sarà la mi ha detto che ci saranno lì tutti più uno fidato perciò vedi te cosa vuoi fare prima mi avete detto andiamo al groove andiamo al groove io sono andato là mi hanno preso con la pistola in testa eh ma era meglio che non mi schiammeva dei numeri capito dovevamo andarci diretti eh adesso poi ti ha rimbalzato adesso dobbiamo aspettare tre giorni questa roba qua l'ho capita però è comunicazione in radio ma adesso tu hai chiamato e non è in città no ragazzo non è in città spoiler riprovo ma no se non è in città non è in città non mi vede qua allora provate a spazio no no 10 mi rinunciate 5 minuti no no stai guidando tu eh non mi vedi prenderti questo non mi vedi tranquilli oh colloca dobbiamo minare AIDS da 300 all'ora tranquilli domeniamo oh ma oggi tutti oh devo offendermi nell'angolino no no devi capire che è un ordine non posso non vuoi farlo no ok ok ma come un ordine oh ma aspetta lo torno da parte tua madonna 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 non c'è più il capo non c'è più il capo sono una gang e c'hanno blu sky c'hanno non c'hanno una gang o un contatto diretto con il cartello sono un gruppo a parte ho detto che sono i primi che hanno portato la blu sky in città e hanno marcato ma e allora vuol dire che sono cacche mafia non sono una gang non è detto e che cazzo mi sono svegliato a 118 da solo non male che non c'era nessuno a 118 siamo andati un'ora e mezza fa fratello eh non hai visto noi che potevamo ammissare l'aspettare no ma ci mancherebbe ha 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 è un po' è bello fino a questo punto scusa eh lo so no diciamo andiamoci a fare un giro c'è a sto gruppo vediamo se c'è qualcuno vediamo se vogliono io vado con AIDS allora chimico oh io edifico sempre dai chignò sai con me dai chignò dove dove quale macchina mi la bordo scusato al bordo che mi la bordo che sto scommando come la che sto scommando ecco ecco Pasqualino è vero che li ha presi sotto sempre so e adesso mi ha detto di dire che mi mandava il signor sbocco ma chi è che ha sputato il pane appena vedo gli spav andiamo in retro oh ma cos'è qua che ti so c'è una corda mi lascia stare se corda ma perché non le sistemate io le ho sistemate ma ha detto ora n come fare ora vedi ecco come le ha sistemate come si è fatto eh me l'ha detto il celestino l'altra volta che ormai mica lascerà una o due volte civico comunque civico no non ce l'hanno con noi ma guarda questi ma stanno andando a qualche parte vediamo al benzinaio ragazzi vai così vai così se no si scatta la minchè a noi vabbè vai tranquillo cioè se provavi a seguirci col cazzo che mi fermava adesso no però non c'è manco motivo eh no invece sì siamo tutti armati e noi non abbiamo nulla no no dico andavi piano però che cazzo magari ne interpretate non lo sapevo comunque me lo date il civico il civico non ci siamo ah eccola eccola sì sì visto 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 qua è cento è trovato trovato qua in fondo quindi è passato un crab va ci debbiamo davanti esatto esatto per quello che ti dico Dani lui era già il portatore della della blu sky quindi non è una gang è quello che voglio far capire i miei ok allora bella bella andiamo in salita salita veloci ma a me pare che non c'è nessuno gru ciao belli ciao belli siamo sicuri che non c'è nessuno qui abbassa le corde non c'è nessuno no ok andiamo via proviamo a passare di nuovo davanti al 118 ragazzi poi vaffanculo io guardo non c'è nessuno al 118 sei tu e tu se nessuno neanche lì siamo arrivati a più io non la mando a fuori ma niente l'elicottero sopra di noi chi cazzo non pensa 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 vola bassissimo vedi questa è la macchina che ti dicevo anche prima mai volato qua l'elicottero pensa questo non pensa ragazzi una domanda siete al gruppo non c'è nessuno stiamo andando via dove state in giro siamo davanti in per strada in mezzo alla città 127 118 ma dietro di noi è l'olio 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 uno dei nostri uno dei nostri sì è lui non venite davanti al 118 che tanto non c'è nessuno neanche lì mezzo no ma aspettate lì almeno dove siamo eh ma non proprio lì davanti che tanto non c'è nessuno vabbè dove state ci vediamo al 200 all'armeria no vabbè non possiamo andare davanti all'ospedale però ma non speriamo questo lo potremmo prendere ma è l'armeria che arriva a mezzo e c'è la tua macchina pop pop ma è fuori anche tu ti cibi io non ce l'hai mai semiglio ma quello è un po' eh chi è strambolchini ma chi è strambolchini se andiamo in giro così siamo imprendibili raga questa qua è del 118 questa è fermatela sarà un borghini guarda questo guarda questo qua con lo stesso sbatta e spammare non era è un marchio di rosa marcolino ah beh se conosci se divina due le viste ragazzi qui sono entrati siamo andati a cercare di giro stella togli la musica togli la musica lo avete ripeto ma tanto stanno in giro a cazzeggiare ok ok franchi facciamoci la bella gianchierata ma non possiamo sapere se sono loro in base a come sono vestiti eh raga dove dobbiamo andare ah dove diventere braccio armato ok allora ragazzi dove dobbiamo andare dobbiamo cercarci dei gruppi o comunque iniziare a capire chi cazzo ci fa guerra quindi rapire gente capire cose cercare motivazioni per per fare determinate cose possiamo tornare al 401 ad assaltarli sono gordo va bene andiamo ok facciamo la squadra di Aide venite venite a multipiano 218 218 multipiano facciamo la squadra andiamo beh 218 arriviamo si è addormentato Aide aspetta no no ci sono ci sono guardate svegliate no no c'erano già da prima pensavo che il zio volesse parlare d'aspetto a convoglio principale cosa? non ho capito vuol direttore ma qualcuno invece che da dei bambini no chi era quel mustang davanti a me spendete le macchine spendete le macchine spendete le macchine guarda dietro mentre entro ah ci sono l'olio ragazzi gentilmente il braccio armato venite qua tutti verso il muro faccio la squadra ciao bernard marco grazie per i like ragazzi grazie mille michele grazie grazie rigo che mi faccio la squadra per assalto un quartiere da tutti rigo vabbè allora andiamo tutti noi 1,2,3,4,5,6,7 ci servono altre 3 raga vogliono venire quindi andiamo check check me ne ricordo chi sei? si è brutto chi sei? è il traditore è il traditore è il traditore è il sostituto ai eeeh è un socio comunque mi riso vabbè noi siamo 7 3 apri 3 ci servono chi viene? vabbè nettuno nettuno a disposizione grazie c'è una cosa però una cosa zio tu vuoi andare a saltare? c'è che mi chiamo non vuoi andare a rarmi togliete le pistole ragazzi togliete le pistole 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 ok a disposizione bene lo zio dai simbolo ok ce ne serve un problema c'è un problema non propone il tuo sforzo sforzo scusa ragazzi mi sento per eeeh l'altro raga ho 5 anno la zettia pura 5 vedi tu o fai qui eh andiamo ah ma non mi dico sai questo allora ti amore ok no ci rai andare tu poi poi mi lanciano l'hai lasciato l'hai lasciato l'hai lasciato l'hai lasciato l'hai lasciato l'hai lasciato senti una cosa stai con noi tu ok va bene al 401 dobbiamo andare a saltare non prendete troppe ove sei ma c'è noi sappiamo le informazioni del 216 215 dove quella quella casetta ci stanno non ho capito ti dico abbiamo informazioni pure del 215 216 dove cazzo era quelle informazioni sono un attimo ferme perché lui sta aspettando ok ok capito 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 come non detto aspetta 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 perché se no andiamo pure lì non è no no ce ne dobbiamo andare ce ne dobbiamo andare c'è polizia troppa polizia qua in giro andiamo via non tornate ci stanno ci sono spira sta arrivando stai ok ok alfa lo sentite 2 anni però è sbagliato la penso come te la senti io vai a live lo resti e mario penso aspettate che mi leggo il messaggio si ragazzi hanno paura ma comunque stanno cercando di poterci contrastare avete capito loro cosa stanno facendo stanno facendo gruppi in giro per tutta come avevo fatto io contro il cartello me l'ha anche chiusa porco giuda perché avevo preso le informazioni da chi dovevo prenderle avevo tutta la città contro poi con i piccoli gruppi mi ero messo a farmi la mia guerra perché avevo tanti soldi e avevo tutto quello che adesso vanno gli NGM quindi cosa stanno facendo se la stanno ruolando come avevo fatto io bella bernarda grazie per il like io la stacco non ce la faccio più ma non ha demolito le orecchie ma che cazzo fanno ma non è il carattressi qua dentro ce l'hai il carattressi qua dentro ehi Ieru oh bella ma tu mi senti sei tu che non mi senti ce l'hai il carattressi qua dentro non ce l'hai il carattressi eh no mi sa di no se non lo agganciava e la toglieva sta macchina eh sarebbe stata la soluzione ideale H dove è andato? ma chi è H? è Izz come dove è andato? non lo vedi? saliamoci nessuno comunque c'è dopo lì rompo il culo ma ti pare che mi chiude la macchina e me la mette davanti al tappo io non lo so ma perché c'è qua una macchina? se c'è una nocciolina annaggia ma poi la chiude roba di via ah ma vabbè colpa degli arancioni questo è sempre io devo dire abituato al fatto che gli arancioni ci urano sempre le macchine l'hanno chiude lascia un attimo hai percepito qualche testimoni che senso che senso abbiamo soldi no ok vabbè ci sono un tre aspetta ti dico quanto c'è qua andiamo a comprare due di quelle macchine che ti stavo dicendo quattro porte che sono davvero ottime mi stavi dici dove? quando? ah ero 4 milioni in barrosseria voglia che ci escono un milioncino preleviamo se non abbiamo nulla da fare ce ne andiamo a 95 se vuoi o pensi che sia troppo rischi amico mio finché andiamo a girare tutti insieme e possono smetallare quanto vogliono arrivano e pigliano il cazzo e se ne vanno quando siamo così se guardano la tv vabbè ma se siamo in 4 devono arrivare in 18 cioè no bastano 5 con 4 bastano ah ok è certo uno in più no addirittura ti dirò 4 bastano 4 ma marcone grazie per il like ve lo vi ho natalone grazie bello ma è normale ragazzi sono strassudato quanto essere sopra il numero vabbè ma gli ngm sono stati 4 4 4 sempre come una volta no 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 intanto Allora, facciamo così Mi cambi i vestiti E ci andiamo a comprare sta macchina Alla fine Stanno sparando qua fuori però Sì, ho sentito 3-4 colpi di pistola Da parte sinistra mia Eh vabbè, sarà il negozietto qua Fammi vedere, non hanno scritto nulla Sul giornalino Devolvatorio lasciare le persone Ma tu hai bisogno ancora Se non ti vuoi cambiare ti assumo qui Eh no, c'è già un'armeria e casa Ah ok Ma spero, vabbè, io posso rimanere così O meglio che mi cambio, dici, visto che mi hanno visto Ma no, cambiamo Esatto Mettiamo giusto qualcosa di sportivo Purtroppo Ulissi Safrisch come me Ma sì, Marcone Eh, diciamo che la mia La mia posizione non me lo consente tanto Di andare in via Eh no, eh no Tu ti devi mettere un spill Ti devi mettere un spill Però dai, la camicetta così E lino è bella fresca Ah, è di lino quella? Eh, di lino Porca puttana La sta cercando da ieri Mi ha fatto due palle Che mi scendono a terra ai piedi Disse, sta cammese in merdi No, ma niente di quello è tessuto di lino Nanzi, facciamo così È di seta Ah, allora non è questa qua Infatti mi ha detto che era un po' arancio Ah, ok, ok Infatti hai detto No, quella un po' arancio Forse c'è la lui quella di lino C'è la camicia di lino o tu, fra? Che cazzo è il lino? Fra, è quello che mi fa le palle Così che gli hanno preso la camicia E ogni volta viene fra Ma c'è la camicia di lino La camicia di lino No, no C'è la camicia di lino C'è la camicia di lino Nemmeno di cotone Questo è finto E gli faranno sempre Questa Bravo Hai centrato in pieno Vediamo se c'è gente dentro No, no C'è Però vi dico la verità ragazzi Questo qua È il mio concetto di RP Capito C'è il mio concetto di farlo Il mio concetto di farlo C'è rompere Rompere le storie E aprire Delle storyline Con Contorte Dove fai con uno Fai con l'altro Stai qua Stai là Poi porti avanti una tesi Che però pensi che C'è questo è un pochino Il mio RP In questo periodo Andrea grazie per il like L'avete capito No Ma poi Sta prendendo Se roba Sarà sempre Un RP fastidioso Il mio Soprattutto per quelli Che è tanto tempo Che lo fanno E si trovano a fare RP Guarda Come lo facciamo noi Tra virgolette Guarda guarda Non ride nemmeno E non ce la fanno Magari a Guarda In trans È in shock È in shock profilattico Guarda Come si dice In Ma non mi viene il termine In collisione Insieme a noi Capito Verso la centina Quindi Cosa fanno Vengono contro Questo è Ma quello che Quello lo fanno Sempre con tutti Purtroppo sembra Che dà fastidio Ma comunque Fra Bella Marco Bella Ma l'importante ragazzi Per me C'è quello che dico io Gli altri Un riscontro Non ce l'hanno Io ce l'ho da voi Siete in 39 cristiani Qua che dite che facciamo Che ci lasciate like Che ci guardate Quindi sono Stra felice Del mio rp Se alle altri Danno fastidio O non piace Ma sicuramente Te l'hai sognato Non parlare Il nostro Capito A me che cazzo Mi ne è in cura Di quello che pensano loro Io il mio Il mio Successo Il mio Consenso Ce l'ho da voi A me che loro Poi stanno lì Che devono guardarsi La live Quindi mi apprendere Farmi contro Ammazzarmi Aspetta Allontanati Forse so cosa c'è bisogno Per farlo riprendere Poveretto Oh no Bene Grande fratello Ciao Massi Che succederà Che ci facciamo Massi Stavo Aia 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 Il tuo E' vero Il suo mondo Mi sono dimenticato Anche cosa Ti stavo dicendo Mannaggia Quello che la gente Vorrebbe Ti stavi dicendo Ti ricordi L'altra volta Quando E' lì frustrato Che dice Maria A questi Vorrebbe avervi a voi Che li guardate E gli mettete E gli donate le stelle Per guardare Quello che fanno Non lo sa cosa c'è bisogno Non ce li hanno Perché voi Siete miei Voi siete miei Chiedo il passere a tutti voi Per aiutarmi Alzate le mani al cielo Oh Porca di quella Putta Oh E' una cosa seria E' una cosa seria E' una cosa seria Non te la posso dire Come faccio Questa macchina Mi sono riporta Benissimo Costa milioni Ma tu manca BMW Se sei brutto Quello che ti chiede Mota Sì da Lamborghini Che figata Ascoltami E' una cosa seria E' una cosa seria Perché ho sentito I ragazzi che stavano Locali dove non andiamo mai Non ci battichiamo mai Ti ricordi quando siamo andati A fare il carico al 31 Che abbiamo conosciuto Quei due mezzi cowboy No Con il cappello Che io l'ho presi per il culo E mi hanno detto Ci avevano detto Che avevano preso il locale A nord Guarda che è successo da poco Che siamo andati Una volta siamo andati A fare il carico insieme Questo al 30 Io vorrei vedere Se comincio a fare una storia Solo legale Vediamo cosa succede Non lo farei mai Perché non mi piace Mi romperei proprio le palle Cuoricini da massi Ma non siete solo voi tre Avevano una salopetta E' un po' di uomini in giro In più un cappello Gli altri sono andati ad assaltare Perché non ricordarti Che erano brutti come la morte No no Al 31 Ah all'import Eh fra Sai chi è Sai chi è fra Quello che è venuto qua Che mi trattò male Che mi disse Ma chi cazzo sei Togli di da cazzo E vennero là di troppa Alla con te Tu dici sempre Tu non gliela hai tirato un pugno E che almeno Si ma non vedete Entra in trans Figuriamoci Sarà una memoria buona Ma ragazzi Io sono sicuro Che mi spettano Perché Quando Allora vedete Io ho Il telefonino Quando ti guardi La tua live Questo sono io No sto facendo Mettere a nessuna Sbuffa pure Ok Quando tu Stai In questa modalità Qui così Mi viene scritto fuori In nome Di chi sta guardando Anche se Non ha messo La E che se non ha messo Niente A me lì Mi dice Chi sta guardando Io so Lo so Così carica Con le foto Che gente Mi guarda la live Per fare metallo Lo so Però è giusto così L'importante È solo uno Ragazzi Eccolo lì Andiamo L'importante È solo una cosa Che chi fa metallo Poi si dovesse Dovrebbe tenere Le cose che vede Al di fuori Solo lui può andare In una macchina Dove possa andare In tre Lui è il vero fake Ma mi dici Allora Solo lui può andare Può girare con una macchina A due posti Andare in tre Lui è il vero fake pilot Ma chi Ma io Allora scritta che Indovina chi la scritta Mamma mia Mamma mia Guarda Allora Prima di tutto Il cambio Se non lo fai sparire Non ci stai Ma tu mi dici Tu mi dici Muvo il culo E ti dico Che marcia devi mettere Facciamo così Usare paletta al volante Che è meglio No Perché così Capito Allora Devi sdraiarti Per sdraiarti In inglese Si dice prone Prone Quindi è Capito Capito Quindi è Prone Quindi Oh Vedi Eh però Vedi Eh però Tutta la palla È cambio Tra Ma c'ho due palle Due cambi C'è un cambio Di ricambio C'è un cambio Di ricambio Una palla Di riserva C'è qua davanti Raga E te ne frego Tu passa Passiamo Eh sì Ma che Ma che Ma che Sono I cittadini Che sono Rincoglioniti Vedi c'è un cambio Di travesse Tutti quanti Ti sono ingastrati Non è che Lo schivano La via cruce Parliamo dopo Di benzina E' meglio che facciamo Ben finassi Esatto Esatto E passa Coglione Oh Che scemo E' una corsia Per girare a destra E tira un dritto Ma schifo Regala una macchina Di su quattro posti Ma questa ragazzi Schizza da matti Con questa Lui riesce Ma che No Accaduto So Ti serve una mano Ma io penso Che ti risponda Mi dispiace Ti trovo ancora qui Proverò a chiamare me Dicevo Grazie Ciao Io organizzerei Una garetta Vabbè io ci ho provato Magari Ma raga Ma senza dubbio Lo dico io Fidatevi Ma sta macchina Beve più di me Sabato sera Ma è probabile Che quell'auto Serà suddimenticata Tutto al sole Dici E' stata appicciata Secondo me Il distributore Che a fianco Che è scoppiato Che ha fatto qualcosa Dici Ve lo dico io Cosa è successo E' arrivato Fate pilot Ha provato a parcheggiarla E questo è il risultato E' l'unica soluzione plausibile Io ho sempre seguito te Candy Come tu sai E se ti ricordi La storia di Candy Con Nettuno All'Irpore 39 Oh ma chi c'ha E' stata una bella storia E' stata una bella storia Ma allora ti piace Però poi Troppo Ah Ah Sì Ma sì Oì Chiama La città contro E io ero con loro Io ero dalla loro parte Se ti ricordi Dani Ma noi streamer ragazzi Dalle persone che Sono convinte di essere I guru dell'Rp Che non lo sono Affatto Perché loro hanno La loro unica certezza Di essere I guru dell'Rp In realtà Non lo sono per niente Mai Diamo fastidio Perché comunque Noi siamo qua A fare Rp Davanti a voi E a loro Non se li caga nessuno E a loro Da fastidio Capito Vabbè Secondo me Dovresti fare Super fiero Dovresti essere Super fiero Perché Se ci pensi Coloro che Ti guardano Facendo meta Perché Esatto Quello che sto dicendo Adesso Andre Mi dico Perché Riescono a scoprirlo Ma frasi Apri il tetto Non giuro Non mi fai Ricavare La spazzolino È un grande Esatto Esatto Andre È quello Che dico È quello Ma è quindi A noi ci vengono Poi Tramite il metallo A distruggere Le nostre storie Rp Perché magari Vorrebbero essere Qui Avere la nostra Storia Avere voi Ma voi Siete i miei Chiaro Belli miei Adesso La gente Deve sempre urlare C'è 120 Ma che ne so Argole Ma dove il cazzo Sei finito Andiamo a nord Ti vi ha cercato Tutta la sera Dove minchia Aerea Faccio in giro Va Ma mi fai solo Cambiare prima Che con sta camicia Così Adesso Adesso Mi tocca Tutta all'indietro Fino al negozio E come faccio Metti la prima Ma frate E' ma ti devi andare Sbattere su ogni palo E' qua E' qua E' qua E' qua E' qua Ho sbagliato la porta Bella Maurizio Jacopo Argone Grazie per i like Raga Allora Ci cambiamo solo Sti vestiti Perché Ad AIDS Un po' di Casu Casu Marzu Cos'è il Casu Marzu Però Come ci vestiamo Ci facciamo Un outfit Tranquillo Ma no Perché no Allora La cost No Oh frate Me lo apri Ma levi tu stuola Che corno Parare Frate Che siamo Pensati In bank Rappone Così Ti piace Beh Frate Te lo giuro Frate Te lo giuro C'ho lo stesso Completo Con il cappotto Lì Cosa Quello Momò Adesso Che fa caldo Così Ma C'ha poco Un messaggio Mi fa Che palliato Che bella Dove Tu sei il principe Madre Dio C'ho lo stesso Cappotto Stisso Completo Mannaggia Allora Fammi vedere Ma c'hai il pantalone Che mi piace Assieme Tipo come ce l'ho Io adesso Con il calzettone Sotto Un bel calzettone Sportiva Giocatori Pallone Proprio Ti fa scassare Ecco così Dai Dai Spind Vico Qua Ma sei Fox Frate Ma mai Solo Un terra Merge Tanto Non ti capisco Senza Offesa Per nessuno E' stata Una delle Più Belle Storie Di Grau Perchè Davate Possibilità Di fare Rp A tutti In questo Caso Esatto Bravo Dani Bravo Dani Bravo Dani Diglielo E' questo E' questo E' questo Il fatto E' questo Il fatto E ti ringrazio Che se per Ragazzi Io penso Che quella storia Che avevo creato Con Hammer Ragazzi Era una bomba Di storyline Che faceva Invidia Tutti Volevano essere Al mio posto Per quello Ho iniziato a cagare Il cazzo Capite E a me Sta cosa qua Mi fa Veramente Mi ha dato fastidio Ma mi ha fatto Di un piacere Dell'anima Perchè Quella lì Era la mia prima Esperienza RP E Gente che fa rapida Anni Credendosi I guru Dell'RP E mi stavano sotto Il sottopalla Sudato E non potevano Fare un cazzo Capite Il formaggio Con i vermi Un formaggio Tipo sardo E' buono Mamma mia Che andiamo A fare un po' Di casumar Su Lo sai che a me Non piace Cioè mi piace Mi piace Ma Che cazzo di napoletano sei Allora No di sardo Dici Ho incazzato Ho incazzato Ho incazzato Ci vuole seguire Non vogliamo sapere dove Te l'ho spezzato Cioè io lo mangio Però lo mangio Dopo aver fatto una procedura Per togliere quello che c'è all'interno Dica che cosa Perché è buonissimo Ma non mi piace Quello che c'è all'interno Non c'hai il coraggio Di mangiartelo Quei vermi No no Mangiato e assaggiato Ma è una sensazione stranissima Vuoi che te la dico? No E allora Ho paura Ma è nulla È nulla Di senti saltellare Capito? Cioè non è una bellissima sensazione Eh sì Eh sì Ah no Ma sono dei matti Eh invece No Ma molti piacciono Ma proprio tantissime persone piace Però io Mio padre Mi aveva insegnato la procedura Per toglierli tutti E quindi rimane proprio solo Il formaggio No? Ecco Così lo potrei anche mangiare Madonna Hai presentato la gorgonzola? Dieci volte più buoni Se ti piace la gorgonzola Dolce Ti parlo di quella dolce Solo sulla pizza Eh Neanche la dolce Ti piace così mangiarla sul pane Tipo Non credo di averla mai mangiata Eh Allora Maggi Eh Non te lo so spiegare Stato Però è buonissima Quando prima è stato Per un mada natalina Candy Alla fine La gorgonzola sulla pizza È spettacolare La storia Eh Salsiccia fresca Gorgonzola No Ma difatti Allora Però Vedi qual è la differenza Dai Noi Se mi dici sei un vegano Madonna Adesso ti voglio fare Chiedi Noi Spettatori di Candy Quelli di Lira Quelli di Albe Siete tantissimi Siamo tantissimi In potenza grandissima E a nessuno È piaciuto Quello che hanno fatto N'RP Hanno fatto delle merde Per farci fuori Capite Eh buono Quindi Sia Candy Che a me Che a Nettuno Che a Albe Ci hanno sempre Ammazzati Per via delle live Perché noi creiamo Delle storie Stupende Dove loro Non sono Contemplati E gli gira Il cazzo Guarda che quando metto La settima marcia È un po' un casino La tira parecchio indietro E lo so fra Perché c'è paricocelli Capito Quindi Sono piccolissimi Però mi hanno detto Che li senti saltellare In bocca Poi ho notato Che ogni tanto Vado a cambiare marcia Ma non cambia Quindi presumo Di aver preso in mano Il cambio sbagliato Però vabbè Ma c'era gente lì Dove Ma poi dietro Era una casa a sinistra Che era Piera di macchine fuori Non so se erano Quindi adesso Rimane sulla destra No fermi Fermi Ma non è che stanno Facendo una palegnameria Che cazzo fai? Eccomi Eccomi Non ho scusato tanto Rimane sulla destra Questa? Qua destra Occhio Avevo visto un botto Di macchina Non so se l'ho visto male Io Ma? Non c'è niente No No Non penso Magari Mi sarei impressionato Avevo visto tante macchine Non so perché Ma tu hai fumato più poco Però eh Eh c'hai ragione anche tu Cero Eh Ma quando ne hai tanta Così Che fai? La butti? Lo sai ragione Tu è un amico Io ti penso Ti penso che tu lo conosci Tony Montana Sto sta dormito Che la capa coppa sta dormito Bello Che film Mamma Qua film Ma io non ho fatto Mi ha fatto Mi ha fatto Siamo a cucci Proprio Ma proprio Amici amici Ma proprio Pule Cazzo è cucciare poco No Cazzo è cucciare poco Pule camice No Non dici voi Cazzo è cucciare Cazzo è cucciare Quindi Me lo manca viva Ah No 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 Non la mangerò mai La non manca viva Ma siete pazzi Oì Scusatemi Ragazzi Scusatemi 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 Immaginati Immaginati Ti stai mangiando Non tanto lo fai Sei multiculturale Ah Maledetti Ma frate Questa vibrazione Che stai combinando Mamma mia No 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 Ma non faccio apposta Non mi sono reso conto Non mi sono reso conto Capito Vedi il freno Ti accelgo Oh ragazzi Mi ha tirato i capelli Alla macchina Alla macchina Sì 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 Facciamo a fare un ciretto Alla Andiamo qua sotto A qualcuno Tornare Se non mi hai trovato Non stai con me Fra Oh Stai con me Non mi hai trovato Un Diagra Ok Ci sono 100-100 Scusatemi Ma avete visto Lì? Sì Tu è una rete Non mi hai trovato Un ciretto con me Ma è Ma è Sì sì Hai capito tutto Della vita Della cirurgia Forse non hai capito La situazione Se voi ci ripassiamo Guardiamo E' una piatta Un inferno Un inferno Con il principe Da solo Con te Ma perché Lo conosce Non lo conosco Ma non mi fido Di nessuno Scusa E buffami il botto Frate A me Capitendo Il caricato Non è già pronto E' anche affrodisiaco Quindi sto formaggiore Ti dico Assolutamente No Assolutamente Sì sì No E' una buona Non hai una prugna Ma perché Guarda che la prugna Fa cacare Non è che Non è che Affrodisiaca Hai frenteso il tema Oh Piano 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 Non c'è Nel giuro Quanto vai Però C'ha diritto Un parcheggio Non c'è nessuno Dentro Sera Buonasica Vabbè 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 Ce ne ha lasciato Una hot dog Qua Una Sprite Sì Ciao Frate Mi piacere Peppo Brescia Qua Qua Stamani Qua Stamani Rod dog Rod dog Rod dog Sai cosa mi chiedo Se le macchine Sono qui Dove sono i proprietari Eh ma io Sai cosa mi chiedo Frate Che la Mustang Là fuori Mi sta facendo Arrazzata Malamente Piano 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 Mamma E quante Qua Stai Cinco Babbà Frate A me Rubala Adesso Scendemi Che Mande Con Fier Però Ma che cazzo Sparata Eh pochè La macchina La vai Fatti Un Sì ma Ciru Ciru Mannaggia Te non devi Sparare Ci sono Altra Capiamo Muoviti Porco Guarda che Vedi che C'è Guarda che Sono le macchine Là c'è Un elicottero Fra Lo vedi Lo vedi solo tu Era fuori Eh o no Lui era fuori Sì Mannaggia Mannaggia Fra 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 Dobbiamo stare qua intorno Vai un attimo Vai 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 A fondo Vai nel parcheggio No ma ci sta nessuno Oh ci seguono Vedi vai 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 Arrivano 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 Vai via 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 Ma chi Gente a piedi Nel parcheggio Sì salite Dalla spiaggia Dietro Non puoi fare Queste cazzate Se stiamo facendo Una cosa No bravo Ma ho fatto Una politica Di sa macchina Il problema Sai qual è Che c'era Lì un elicottero E della gente Stavano facendo Un incontro Giurano Purì Eh eh L'ho scomerto Quando mi hai sparato E pensavo Che erano loro Che mi stavano Da lontano Scamuffato Anche la macchina Adesso Ma è clara In bianco Ce lo so Io mi tocca Di cambiare colore No no Non ti conviene Ma come non mi conviene Ciruas Perché mi faccio prendere Perché tu fai le cazzate Aspetta Perché non ti conviene Hai visto vici Stava gente lì Cazzo No raga Ma io volevo spiare Ha speso tanti soldi E' stata fatta Quello che Ciruzzo Un culo a lui Ha sparato C'era il cartello Penso di sì Però volevo capire Con chi era Hai capito Ma siamo in tre Che cosa cazzo vuoi fare Ciruzzo No no Stai solo tu Perché di dove Stai solo tu Ha 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 E' pezzo di merda Ha 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 Sì Ha 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 Inoltre non stai solo tu Ha 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 Guardi si chiunfano Che cazzate Dobbiamo cambiare Subito Instant Il colore A sta macchina Fratella Sì Qua frate La vogliamo fare rosa Qua Pustiggiamo Malamente Oh no Non ho visto nulla Eh tu Ma hai rotto la spazzetta Quella fra Che non ho saputo Il numero di targo Ma devo fare la lettera Sì sì Ti riprendono Il numero di targo Che caldo ragazzi Anna Grazie per il like Grazie Filippo Grazie mille Ma non è che questo è un ricotto Sopra la testa In questo momento No no Sta Sta troppo alto Sta troppo alto No ma non era questo Era quello col rotore Dietro il rotondo Ah Qua c'è la banda Era quello di Sembrava quello di dark Quello blu e nero Eh A posto E la macchina L'avrà visto Tanta volta La mia Andrà già Mannaggia Chiamata Allora tu Tu si tiene le palle Le fa rosa Sta macchina Si tiene le palle Ma lo vedi che sembra La Batmobile Nera Fra Se c'è le palle Le devi fa rosa Frate Che c'è Fammi re come si mafio Si Fammi re Ea fammi re Sta chiedendovi Fare la macchina rosa Eh fammi re Mafio Chi sei mafio Se si metta paura Di fare la macchina rosa E per la gente Come ti La mafia Stanno fuori città Quindi Ma Come è andato il messaggio Quello locale lì Ce l'aveva Ce l'aveva Candy All'inizio della V3 E trappa Insieme Sono fuori città Quindi Le parti Andiamo a 95 Per la macchina No La faccio La faccio Andiamo dai Ma è tutta rotta Ma va bene Spero a riparo Quale è la musa Ma no No Con quella No Quella è la borsa Che la macchina Frate Quale Voi capite che è un urso Frate Che la macchina è un urso Ma qua Che mezza Quattro Alla Ma Della come l'avecci Fatta a musa Eh frate Scopri Diglielo tu Per cortesia Raccontali Due e mezza Con questa Che fine hanno fatto Ma frate Ci mancano solo l'ugno Frate Che la macchina Che la macchina L'hai detto te Mannaggia Comunque Comunque Bella sta macchina Abbiamo visto che lì C'è gente Ci fanno Grazie per il like Amore mio Benvenuto Come stai 102 like Stasera siamo partiti Con il pato PAMMA Belli miei Ma come si fa Il pato non croce Ma Qualcuno 95 Che la maggiore parte Stanno andando a streamare su Twitch Che potrebbe essere anche ragazzi Che fanno bene Per carità Non lo so Un sacco di azurro Potrebbe anche Anche darsi che fanno bene Perché Comunque Twitch Raga È una piattaforma Non lo so Però Rettamente per i gaming O sono un orchestra Io non mi posso lamentare Raga Perché comunque Da come sono partito Un canale molto piccolo Pochissimo tempo Che ce l'ho Ehm Su Facebook Per adesso Ho raggiunto I miei risultati Poi secondo me Lo step superiore Può essere difficoltoso Se con lo step Non arriva I grandi Poi magari Per crescere Di più Per ora Per me Non avrebbe alcun senso Farlo Capita Bella Merone Ciao Matt Come stai tesoro Tutto a posto E grazie per il like Amore mio Quanto hai Tengo 30 euro Ma Ma si Ma si Cosa E che macchina Ho detto C'è la faccia Comprarmi una macchina Con i soldi che ho Mi ha detto Quanto hai Ho 30 euro Ma che macchina Mi posso comprare Ma Quelli che cazzo Erano lì fuori Col mezzo Non lo so Non lo so Però era usato E lì 682 Più che altro Ci è passato Un camaccio Non so se l'hai visto A fianco poco fa Un sacco di azzurro Erano estro Compaissone Lì mi Oh 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 Ma adesso, adesso, proprio. Raga? Chi è il radio? Come è andata il 401? Il 71. E dove cazzo state? Eh, io stavo con il video fuori. Eh? Stavo con il video fuori. Non ho capito un cazzo neanche chi è. Vengo il suo di tatuaggi. Eh, non lo so. Ha la voce simile a Cranker, ma è troppo grande per essere Cranker. E tutti gli altri? Eh, non lo so. Non ho capito. Vai al 95, vai a peccare, vai. Aspetta, 31 per far benzina che siamo tranquilli lì dentro. Cazzo, tutto tanto. Adesso, posso fare una domanda seria? Gocciolo. Senza che stai. Allora, io sono stato qui 4 giorni malato, non ho uscito proprio da casa. Ma Argo, alla fine, ancora mi conosco. Certo. Ah, ok. No, la mia nera è la Batmobile, è uguale. Ma frate, si era te la cero, ti capite che è tutto il ciappazzo proprio per la macchina rosa? Cioè, sono coppie di macchine, sono loro. Ma cioè, tu ti rendi conto che se ti do 100 metri con questa macchina non mi vedi più con questo colore? Come che è in polizia? Scendo io. Sto te su. Ma? Cazzo capita? Come che è in polizia? Questa non la sapevo. Scusa. 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 Allora. Bella Cri! Come stai, more mio? Benvenuto, grazie per il like. Ragazzi, adesso mi prendo un frigo, eh. Mi metto un frigo qua giù, qua sopra. Mi metto un frighetto qua, di quelli belli. Mi fico dentro anche le birrette. La sera mi faccio l'RP con la mia birretta girata, la metto dentro il frigo e me la bevo. Che ne pensate? Ogni volta 100 dollari per fare il piano questa macchina. Che sto sudando con l'acqua, c'è. E posso girarci per 5 minuti, cazzo. Qua, però come le sottolineate? E' così proprio bruci, eh. Eh, no. Eh, no. Non è che più doppio, porco giuda. 100 dollari ogni macchina, cazzo. Io, dai, c'è, ti faccio qui, non hai visto quanti fitti. Eh, no, no, ma lo devo sottolineare. Ma è proprio come mi fanno, poi. Lo devo sottolineare perché questa macchina o ha un bucchettino in serbatoio o è impossibile che io... Oh, poco fa 100, sono già 90. Ma come con un altro BG, Candy è davvero, ragazzi? Fa 100 metri al litro, 100 metri al litro. Ma lo so. Ha lasciato il... Ha lasciato il light, ha lasciato il light. Ehi, hai fatto bene, Dani, grazie mille. Le cose fanno i capi, tu. Sì, ma le scarpe poi non le devi, cioè, non ti ho detto quanto ho pagato la macchina, io. Eh, ma gli ho detto, fatti fino, io ti ho fatto 100 euro, ma non hai visto quanti soldi spitti? Eh, sì, sì, sì. Allora, fai bene, ci sta benissimo. Mi fai con la birretta, sì, li metto, ragazzi, non ce la faccio più, sei paziente. Adesso ne compro uno, lo metto qua. Ma come stai a sparare a essere il frate e poi... Dopo caldo, sono bagnato. Prennemente. E magari sarà quello, secondo me, che cambia, caldo. Allora, guarda che prendo il salto. L'avete mai fatto? Cioè, avete mai provato a farlo, questo? No, 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 guarda, tu cambia il computo, è inghiato, provate a fare una serie, per me. Ma, mi fai scendere, mi fai scendere le trenta, con lui. Non c'è nessuno qui. Oh, ma ci sto capendo un cazzo, ragazzi. Non sembra che ci sia qualcuno. Ma vedi, mi hanno già fatto un cazzo, i cazzo, non è che si siano fatti, cap'oro. Ma è un cazzo, c'è quello che aveva. 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 C'era, non so se hai visto prima, tu ormai oggi sei in trans psicoattiva. C'era un po' di gente bruttina, eh. Eh? C'era un po' di gente brutta, ci sono passato davanti. Davvero? Ma era gente? Eh? Si, c'era. Con il Ferrari russo. Eh, il Ferrari rosso, ah no, era grigio. Potrebbe essere di mezzi, eh, il Ferrari rosso. Ah, è passato da Lucamper a lui Ferrari? Eh, maledetto. E' una cosa, ti faccio parlare una cosa, ti faccio parlare una cosa, ti faccio un peccato. Vai. Ah, farò più difficile però sempre, oh, mi distorcio, mi distorcio. Allora non me lo dire. No, no, ma è una cosa che mi ha messo qua, è uno che mi ha buttato a città una cosa a me. Ah, boh, è potuto in all'armeria che mi ha buttato a città una cosa a me. Oh, la vuoi sapere, se non puoi sapere, appunto, diciamo, ma dov'è che non me l'hai detto? Perché, nico, perché tu l'hai detto, non puoi spiegare? Ma non puoi spiegare per forza? Eh, no, io, non puoi spiegare, però, oh, annaggia, fai scherzo ora. Buonasera, che ero, come stai? Notte, boss. Ho appena chiudito i occhietti, grazie, 1,500. 1,500, goble, grazie mille, grazie di cuore, Cree. Ragazzi, un po' di stelline dobbiamo riempire da barra qua a destra, eh, non ve lo dimenticate. Grazie, Cree, grazie mille, davvero. A me piacerebbe vedervi te, Candy e Alve. Ira, CJ e AIDS, fare una gang assieme e volare assieme. Pacchiamo di brutto, però vi portiamo solo una storyline, capite, ragazzi? E alla fine anche voi non è bello, secondo me. Cioè, per il server e per quello che, la community di Facebook, perché voi poi guardereste solamente una storia, la nostra. Non sapreste nulla delle altre storie in città, non è, secondo me, giusto fare così. Anche se vi piacerebbe una storia, non lascerà nessuno. A capo, rodo, particci una cosa. Ascolta me. Qua, quando sapete che va sta? Tu, ora, noi facciamo tutto, 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 tutto. Tata, ta, 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 ta. Quella riconosco a chi sta? A me, lascoltami, sono con me in questo modo di... Ah, ma ragazzi, ma oggi c'è un po' cazzo di vento dei motocross? No, eh, prendiamo gli altri... ...di caggiaggiare un'oretta, poi... Ok, ok, ho capito, capito. Ah, ok, ho capito, capito. Non ci sono andato, ma ci sfuggate proprio. Non avevo capito, Marco, infatti io non capivo niente. Dicevo, ma come? Quindi io sono te, sai? Ti prendi il frigo e devi mettere la birra in knusa, sempre Io in frigo ci avrò 20 knusa, Gianca Ma ma che è entrata? Ed è uscito là lì dentro, non c'è più Eh, il mirto me lo dovete mandare voi, me lo dovete mandare Me lo spedite la portiera di mirto buona Sì, ma non è possibile, quanti migliaia di persone ci sono? Gianca, qua non c'è il mirto buono, posso solo comprare Stanno scendendo il tetto mila cristiana Eh, è possibile, non sarebbe bello per voi, capite? Lo stavo dicendo, ma... Ti provo, non stanno tutto quanto in te i barro, come i topi con Ma secondo me i nostri ce lo sono andati tutti di là, sai? Sì, 100-100 100-100, puro proprio sicuro Perché c'è una combat anche? Eh no, è la mia, mi basta, me la sbaglio Ma? Vabbè, allora, che ore sono? Le 1 e 20 Ma? Hai visto? Sì Tu sei poco attento, c'è la dirente, eh Ma è gente proprio brutta brutta che in treno Non possiamo fare niente No Soprattutto in treno in una macchia Da due Unica cosa, se prendiamo qualche polizia ci divertiamo un po' con loro Ma non c'è manco quella in giro, mezz'ora che in giro Buonanotte, Marcone, un abbraccio bello Proviamo anche Proviamo di andare a nord E la mettiamo in una cassetta di legno, Gianca La mettiamo in una cassetta di legno Con dentro il pluriball, questa bella gustata E poi in una cassetta di legno Ma lo sa, cioè lo immaginavamo già, raga Lo immaginavamo già, Marco E dall'R.P. l'abbiamo capito, capito C'è bisogno di nessuno neanche qua Lo sapevo già io Abbiamo la macchina davanti La getta con quell'altro No Silvia Sì, la Nissan, la Nissan Ah, bravo, no, mi ha dormito la volta Sì, la c'è la 10 minuti, la Silvia Bomba, ci sono tornato qua, come una tirata Bomba, la c'è, Silvia Eh, questa è una macchina No, il viola, il viola non penso, raga Ehi, se prima ti fai una macchina equilibrida, ci fai una macchina Tu facci la cagnola, tu facci la cagnola Vabbè, ma Perché sono incaffi, no? No, tanto che penso quando hai fatto la macchina a rosa Che è successo? L'hai visto? Eh, sì, è entrato là dentro È entrato a destra All'entro dove? A destra? A destra, dove tu hai visto? Aspetta un attimo Voglio vedere se c'è qualcun altro dietro che stanno aspettando E ci sei? Non sto facendo queste cose per niente Ai 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 Prì Pronto? Cosa? Adesso guardiamo qua una cosa Sì? Ah, stavo guardando perché Alfa mi ha scritto che stavano incaffi E adesso stavo vedendo se erano incaffi Ok Aspetta un attimo Stai attento a destra No, mi sa più avanti, mi sa più avanti No, questa è l'unica Ah, è vero, però ci non è Aspetta, guardiamo qua Eh, hai spesso? No, è la prossima Più avanti era? Sì, sì, è la prossima entrata Eh, devi sbagliare qua No, vai da Entrata ho... Pusco? 7709 In giro per la città Vuoi? Aspetta, Ciro, aspetta che non si capisce un cazzo Eh? Sono da solo Eh, però Stiamo girando un po' Per vedere se c'è qualcuno in città Da capire qualcosa Noi Ma gli altri non so dove sono finiti No, eh, non so come non sa nessuno Hai visto di nuovo il Mesa? Dalle montagne è scese Non hai visto, Pri? Sì, sono in CAF i miei, è vero Eh, no, stavo guardando la stessa storia della CAF Sono tutti lì Sono qua, sono qua, sono qua Dove? Sono qua in questa via, qua sotto Sicuro 100-100 Il Mesa è sceso dalle montagne Che macchina era? Un Mesa e una Nissan Silvia bianca Non so, la Nissan Silvia quando l'ho vista la prima volta Aveva davanti la getta che abbiamo visto lì vicino al 200 Ed è uscita da questa casa qua Sì Andiamo a far piantonare i nostri I posti qua a capire chi ci sta qua dentro Anche perché io vi ricordo qua una volta ci siamo venuti Dovremmo conoscere chi c'era Eh, ma hanno cambiato Siamo da dietro a casa loro Adesso ho provato ad andare più avanti Massimo, grazie per il like, grazie che ero Ma quel Mesa che è sceso dalle montagne mi è sembrato proprio strano Andiamo un po' qui Una idea, mi dicono Dopo un piano di... Ah, ok I Viola vengono con me, sicuro, raga Ma che scherzate Jay, secondo voi va dalla parte di quelli che l'hanno fermato? I Viola sono Jay, eh? Chiara con me Non sarà mai contro di noi Non lasciatevi di cintura perché qua è tutto tornanti Adesso salita di sci Eh, vabbè, è meglio, raga, che lavora con gli NGM E' meglio, è meglio, così c'è più gusto, ho capito E' più gustosa la faccenda adesso È l'unico posto questo C'erano anche delle sgommate, raga, state attenti Non asfalto Fate attenti Attentissimi da adesso in poi proprio In caso sgaso di brutto No, quella lì era, eh Ok Proprio adesso doveva piovere, quando mi mettono i tornanti Vaffangulo Ma dove l'hai buttato a quello? Bello Eh, ma siamo già in treno, una macchina da due Comunque stiamo piantonando alcune case in giro per la città Ma tu chi sei? No, D'Archiglio Chi? D'Archiglio D'Archiglio Che cazzo è? No, no, con lui da un po' Tranquillo Eh, aspetta un attimo che ci rivediamo Che ne so Vediamoci in città da qualche parte Dai, dove sei tu? Io sto con un'altra città Allora, arriviamo lì Un attimo a 200 Ci vediamo davanti all'armeria, ok? Eh, aprimmi c'ha 200 L'ultima fu qua proprio Sì, ma sono troppi Ma com'è bene che la piazza di mandarino Dove? Sono tanti E lavorano per la natina Quindi sono diventati Ma va Ma va Il GrooveSJ Non lavorerà mai con Renatino Raga Guardate che in RP Si può fare anche il doppio gioco Poi magari Lo fa con me Lo farà con me Non lo so Io non ci ho ancora parlato con loro Non li conosco in RP Quindi Ma Renatino ha detto che Di uccidere Ad un altro Ragazzi, ma avete visto Renatino stasera? Ci ha incontrato due volte Una ieri sera Una stasera E' andato giù con una pera Ma che cazzo deve fare? Dai Ma stranissimo Se non sono qui con due macchine Se mi sono andata al nord A proposito di nord Prince E chi me? Ma non ti è sembrata strana Una parlata che ci ha fatto ieri d'arco? E come no? Per difendere la città La città è casa vostra Ci ha dato Ci ha dato un input pazzesco Con quello che ci ha detto In più oggi Andiamo al nord Troviamo incontro Tutte le macchine che sto Oh, ma porco Giuda Ma maledetto bastardo Ma Oh, non ti dici Chi ti ha detto Oh, c'è Oh, c'è Eh, pezzi e merda Ma come ti fai a me Eh, fammi capire Stronzi A questo, a questo Fammi lì Ti fai il schieno Tranquillo, tranquillo Oh, questo parcheggio qua Ma chi sto andando pure E ti fassimo Fai a pisci con me Mamma mia Guardate che parcheggino qui Eh, sì, sì Ti fai a macchina No, però quando ti esci No, guarda, guarda Non c'è un'altra uscita Eh, esatto, esatto Ahia 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 Ma come è possibile Uscire dall'altra parte Ma non è che non possiamo più uscire No, no, ci avrà solo un'entrata e un'uscita Guarda, guarda, non mi ti va a sfruttare No, si è fermato là Ehi, guarda, esatto Cioè, raga Dove devi accettare E questa cosa che c'è Ti stanno dicendo Guarda che se in città Ci sono Oh, fuggi Ma per se è normale No, no, che si sta a fare questa roba, bravo Che si sta a fare Ah, ma ci va una rapina là Eh, la mano facendo una rapina Eh, ci siamo a mettere Sentite male là Perché le può rire La fatta Sì, sta a fare Ci buttiamo con lui Oh, ce n'era uno da solo Però facciamo Lo prendiamo Che n'occhio Bianco, bianco e nero È brutto che abbiamo solo questa cazzo di macchina Già siamo in tre Mi esce un po' di uno strano Eh, se poi ne facciamo Sì, ragazzi Ma Dani Devi capire che l'RP È fatto di tante cose Non è detto che sia così, capito? Cioè Quello magari è quello che ha convinto lui Ma Risorto Eh? Prendiamo questo in singolo Dimelo tu Facciamo C'è uno va solo Al negozio di tre BMW bianco Ma magari Non avevamo che appena entrato Dici Dov'è? No, BMW BMW bianco Vedi che è ancora parcheggiato qua? È ancora dentro? Oddio, oddio, oddio Lo vedi il BMW? Lui è dentro Eh sì Possiamo provare a prenderlo se vuoi Solo che Come sperare che non collai il radio Ah, arancione ho visto Vabbè, allora arancione Cazzo Vedi? Ah, sì, sì, sì Va già collando, madonna Sicuro quella macchina l'ha rubata Sì, sicuro Sì, arancione Arancione Quella macchina non è sua Ah, dovevi andare all'Almeria 200? C'è 36 di benzina Io mi dissocio La vendo La vendo Non è possibile Sì, consuma troppo sta macchina Ma sì Ma deve avere un buco nel serbatoio sicuro Qua, mannaggia, allora Ora prova a contattarli per farle imparare Perché se no No, vabbè, abbiamo girato All'altea nord, giù, su, giù, su Eh, sì All'altea grupe, jay, sì Capisce Comunque Lo scopriamo che è meglio Esatto, Dani Esatto Piratevi di me Che sarà una bella cosa A fondo potrebbe anche essere Però, raga Non sappiamo Chi fa Che gioco, capito? Mi dissocio Completamente Ah, posto, è salito, è salito Ma? Perché non andate con quella macchina là? Non è meglio di questa Meglio quella, mi sa, di questa, raga Che macchina è questa? Tra, baffalo questo, per esempio Ciao, bello Madonna che motorinetta Vai piano Che? Io Perché? E perché? Andiamo con la macchina, ti Quale? Quella rossa? Questa? No, quella da là L'amica mia Ma che vuoi andare tu? Vai, io stai qui E mi sono andata per noi Fra, fra, dammi il numero tuo Fra, dammi il numero tuo Quello che porta la moto Perché, perché, fra? Ti faccio passare una cosa 4, 1, 4, vai, fra Ti, fra, ti faccio passare una macchina Ti faccio una macchina stracciata No, fra, non è stracciata Come no, sì, fra Non preoccupa Non è stracciata No, no, non è stracciata Ma, frate, se perché sei adesso Non gli esercii, non mi fai mai Non andrò E tu non puoi andare E tu non vuoi andare E tu non puoi andare Ah, no, ti sei No, frate, ma te che sei E tu, non mi fai Non ti, non mi fai No, 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 no No, 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 vantemi sul tuo My name is Giorgio Wow, come è f***o! Bella Giorgio, in chiara cosa qua, è poliglotta Giorgio Ma questo che cazzo vuole? Allora, fra, mi rispondere sinceramente Come? Mi rispondere sinceramente Sinceramente? E' meglio una macchina nero, una necessità macchina Mi disse Eeeh, sincera proprio E metti una nero a pelle Mamma mia Ma stai nel tuo, c***a che ricoglione Come ti prometti? Come ti prometti? Hai visto come sei andato? Come ho visto che eravamo in due Facciamo prima tanto il reggae grosso e poi Si vede tutto quello che balla reggaeton e poi Eccolo Eccoli qua, si E iniziano ad uscire i toppolini Oh ragazzi, io vi saluto, siete tutti buoni amici Parano il suo video proprio con un baggerice Ah? Oh che c***o fa questa? Ma cos'è? Ma sto c***o di m***a guarda No, no, mi dissocio No, mi dissocio completamente dai ragazzi Vai dentro, vai dentro Mamma mia Mamma mia Eh, al pelo mi sa Eh, ma sotto gli otto secondi dici or potentiali No, no Ancora Uh Dove c***o hai sto co***o? Ma che ne vado a fare in culo? Cattiti di dispendiere la musica? Bla bla bla... Di spiegliere la musica? Di dispendiere la musica, ma di capo? ändi appagg Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah ghahahahahahah sequence ma mia ma c'è scritto c'è scritto sul passaporto quando entri città porco giuda vietato mettere la musica una città triste posso raggiungerà tutto ma bisogna nascosti dei dei suoi mafiusi di aprima canzone che sembra sanno nascosti ma anzi da buona voglia di mannaggia cazzo una cazzo ma la cappella e led via non dimettere mai contro il capo annaggia la morta ora che poi ti spacco tutto ti lamenti guarda guarda ma come mai va va vammora che dov'è ne fa rallo va vallo va va no rallo a bino questa ca**a Gli sbirri che pintano quelli che ci vogliono rapire e li seguono Hai visto i gialli con la macchina gialla? Si 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 è costato per rapirci Si è costato per rapirci C'è un'altra macchina che sta girando Gli sbirri li hanno pintati che figato Ah no sono sempre là Eh ma perché c'erano gli sbirri che li seguono Ecco Sono la ciappella assistiamo al rapimento di Cirlu Dai guardiamocelo Dai Cirlu fatti prendere Fatti prendere vai Ma tanto a casa te ne frega Mi avete preso lì perché sono il direttore dell'armeria Bravo che cosa Eci fatti com'è Bravo Dile che lavori per lui Si tanto a me ti cazzo E poi dili mi raccomando quando lo vedrete con il McLaren provate a prenderlo Dichelo No no io ci dico a fare Cirlu Chissà ogni tanto che hanno colore più in macchina Anzi dili anche di più quando siete passati con la macchina Ha detto che è proprio una macchina di merda Dili capito? No fra ma io mi voglio fare pigliare non mi pigliare a me Voglio provare proprio che lo brividi capito Lo brividi quando mi fanno le domande Si si fammene un'altra Fammene un'altra Ma quello non era quando salivi in macchina E prima o me basta Aspetta 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 Ah vabbè dai vieni qui 30 di benzina il distributore più vicino è qua Vabbè ci troppo che mi accompagna la casa a me Eh Adesso si gasta Eh Ehm Bravi Dimmo C'è il signore su Ma ora si andrà a mano a me Eh E ora appena Eh E ora ci sta Ma mamma riccio a me il merda Si trova una tratta Eh Non scendete voi eh E se arriva una macchina state zitti che la chiusa appena appena siamo vicino come siamo messi con i like ragazzi andiamo 109 dai 109 anche sono buoni ma da quello con me è scemo, con il rotoletto, la pezza puma è scemo, c'è la cittura a vedere 10 minuti prima che giruzza è una comica ragazzi, non mi fa scassare ma lo sai che tu non puoi bere sotto le pomme di benzina? ma quello lo sapevo di fumare, sotto il vicino no, non puoi bere manco perché cazzo è un bar, secondo te chi è scemo, dopo siamo due c'è, tu vieni a fare un barretto con la cosa, ragazzi, non ce l'ho capito e' concorrenza, Cirui, è concorrenza allora, le figure è merda proviamo sto fuoristrada giallo, e poi tra l'altro c'era anche una getta oh guarda il mustang parcheggiato vì, occhio che la getta ci mangia cosa fa? ti dico di no ok, lo scuola d'intorno l'intervento è 1,38 sbirri di merda eh, anche la polizia ci segue ma come i compagni miei? sai che l'unica cosa che hanno visto di me è la targa della macchina? eh, è finito, è finito eh? no, vai tranquillo, intenzialata ma i miei, non sono più in radio, non sono delle cazzo, non è finito ma scusa, ma quel ragazzo alla fine che ci ha detto vedi te l'armeria, dove cazzo ve lo siete scollati? ma è andato in giro con quell'altro, con il motorino ah eh, ma dove sono? c'erano in giro fino a qua, fino a poco fa, adesso non ci sono più sicuramente no, te lo dico io te lo dico io ma i nostri, lo sai che sono ancora in caffi i nostri? ma ancora? si ma che cazzo è successo? ma che cazzo ne so? io ho letto anche ho visto un email che stavano chiamando anche qualcuno, l'esponente dei video eccoli dai almeno voi, cazzo eh ma ecco eh ma ecco eh ma tu sei bello ecco eh ma tu sei bello ecco come fai così? eh capiti che lì sta con quello cippone là almeno passati a fianco poi da ci richiamare sempre può fare nomi di socio ma quello come sta da correre a prestazione, capito? eh vabbè, me lo porto in giro in città e in città ah no, non conta se c'è ma tu come minimo ti devi fermare davanti a lui scendi fortissimamente, ti fai una sigaretta e con te ti accedo una sigaretta, vai giù poi gli do un destra e scappiamo io gli do il destra ok il primo destra è sempre il mio, ricordate vai giù come da qui, veramente più in tempo mi fai trattare la sigaretta poi c'è una sigaretta ah 396 è qui qui da qualche parte ma lei gli dà il tipico il motorino no sta atteggiando questa socio 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 te la vuoi giocare sta carretta? dai ci divertiamo un po' cosa? ci divertiamo un po' in macchina te la vuoi giocare sta carretta? vai ti seguo ti seguo un po' dai ti seguo vai maglia di Yuno Turbo quello da seduto a fianco c'è il casco nero e la maglia di Yuno Turbo ma con l'asso di bastone è andato su, ma? tutto è a posto ragazzi? tutto è a posto ragazzi? frate è andato e ti fai una signa roba perché pensavo le ha giusto a su questa maglia ma tu hai un rucco eh? è in vita, è in vita si ora è sfida nooo nooo oh quanti siete? nooo nooo siamo in tre perché dietro un porto ah ma chi hai wey? siete un po' volati sul ponte ragazzi ma si wey? parca troia state bene? si si io avevo il casco meno male vedi? mi stavo per chiedere i soldi ah ma ma tu sei wey? hai il casco perché si è abituato ad andare in macchina con lui fa 0 vero, capito, capito capito, capito, capito 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 ma ma con questo si vede l'autobietta, vi vedo anche voi dei soldi lui chiede solo non ti l'ho mai chiesti mai chiesti che tu mi vorresti chiedere soldi a meno non capito scherzo facciamo una gara eh chi vince che vince cosa chi vince vince i soldi non abbiamo soldi ho qualcuno di me questa l'approach no no non è fair a quanto arriva questa c'è un chilometri orari in più della tua la mia arriva a 2,70 no no la tua non ci arriva a 2,70 l'approach allora ti posso dire che questa fai 5,60 però posso crederci c'è il buro che cazzo fai pisci eh vicino alla ruota con fan di canto no no non ci stiamo ciao ragazzo oh dammi la mano frate no non gliela dà grazie frate si è pulito la mano si è pulito la mano dopo che hai pisciato e tu sto ragazzi per la macchina fa massimo 200 no no meglio lui alexio grazie per il like guarda che non sei messo benissimo eh no piace più a te non a me ma c'è qualcuno qui dai ma voglio comprare due macchine da un'ora non c'è nessuno è stranissimo che il 95 sia chiuso si è che sa tu come mai non ce ne sono eh eh tu l'hai voluto sapere prima io non ti dico frate facendo sapiena ahahahahah non mi puoi vedere sto dicendo tre giorni ti dici hai dei mosti è un piacere questi ci stavano aspettando il proprietario del 95 esatto venne si rilasco 4-5 di loro di ragazzini e lui chiese un bel carico di armi e munizioni e disse non è che me lo consegni da qualche parte ma che cazzo sì ma mi è apparso davanti quella macchina è solo in tre persone ma che hai una getta dietro garetta ci sta garetta ci sta ti seguo un po dove andiamo dimmi un punto da qua a quel punto che dici tu da qua fino a 1.1 1.1 no è tra te sto punto no fiamma ospedale fiamma ospedale fiamma ospedale no fatti questo mi brucia eh in dritto non lo so proviamo dai aspetta aspetta qua fino a ospedale no no ospedale 6.44 ripeti ripeti 6.44 vai aspettiamoci le 4 3 2 1 via vai fake vai a apposito già morta luce il che è oh my god Mammina che va Ha girato di là lui Non so perché No, loro hanno girato in quella prima Ti ho detto che la mangio, la getta Ti ho detto che non uso più nessuna macchina Da quando ho questa Eh ma perché vuole che arrivate sul dritto No, no Quando è ora di girare Ma non ti crede Adesso perché sta piovendo anche quella Fai drittoni, essendo anteriore Oh frate, non ti dispiace ma hai un strappo 200 a me Sì, sì Sto sperando da vedere se arriva Ma mi sa che si è arreso subito Ma quando arriva, bravo Chi si arriva, ma che si dà il resto in braccio Oh e comunque continua a dubitare Di quello che gli dico sulle macchine Incredibile, incredibile Perché Eccoli qua Oh, è arrivato a dire, è arrivato Sì, sì Oh, aspetti, si fa inzato la d'albra Vai giù, sì Vai a posto, a posto Vediamo un pochettino se ci potrebbero dire qualcosa Ti accompagna al 200 Ma ho fatto 4G No, non lo so, sapevo anche perché sapevo che Alve è oggi entrato come poliziotto Non è entrato come... La parana rapina Ah, ma sono... Oh, ti la posso, ti arrivate prima Eh, prima, certo Eh, noi si fai del Samurai Che c'è la cordura legale Ma ragà, ma avete un meccanico Tra di voi Eh, no, vedi un kit È che... Ma l'avete già fatto partire qualcosa qui? Sì, sì, sì Ma quanto cazzo è arrivato lì? Oh, da tanto, da tanto davvero Ma guardi... No, ma ce l'ho... Ce l'ho quella macchina ragazzi Da quando questa non la tocco più quella Ma quanto... Ma dove l'hai preso? Eh, questa valuta estera raga Bit? Eh, eh Eh, cazzo... Quanto è quanto? Quanto? Eh, il massimo raga 50 bit No, il doppio, il doppio raga 100 bit Beh, ho scadroia Questa c'è la grana No, però è ottima Cioè, quella... Finché non avevo questa Usavo solo quella lì raga E ancora oggi uso quella No, io ne ho un'altra Cioè, ne ho un'altra Sempre di questo... Di questi modelli così? Eh, c'ho... Come si chiama? Quella tipo gialla di... Ah, no, no, no Gialla è... La sobra? No, no, la Nissan Nissan, Nissan Allora, è tipo questa? No, non... Non è tipo questo Sì, ti ho capito Comunque del film Di quello Foster Furious Sì, 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 bravi Sì, sì, è la Nissan Oh, la Nissan Z Ah, la Z No, no, la Z È quella tipo col... Ma cazzo dice? Eh, è decapottabile Raga, quasi No, 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 no Ah, è quella a tetuccio fisso? No, è tipo una Subaru No, mamma mia Che paura C'è tipo un triangolo Come stesso Ah, è la 350Z Raga Aspetta, dimmi Come si chiama adesso? Nissan 350Z Oh, ce ne andiamo Raga, non si sembra che poi arrivano qui e ci fanno il casino Aspetta, aspetta No 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 Strano Sì, ma me la Silvia Quella con l'alettone è gigante dietro Io, va velocissima ma parte tanto di culo No, è simile, è simile Per la Silvia nasce bianca No, è tipo la sua Guarda, se arrivano gli spiriti ti cercano un'automacchina Vabbè, vai via Dai, ciao belli Allora, proletta Ma che fa? No, 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 no Non potete proprio usare questa Non potete usare questa, raga, per la rapina Capito? Eh, perché è bit Ciao belli Ciao belli Questi mi sa che sono quelli del gru Beh, è vero, dai colori che ci avevano detto No, mi dissocio da quello che ha detto in Perché? Eh, perché tutti si dissocii, temo Frate, non voglio di dissociare Ma c'ha ragione anche lui Stavolta c'ha ragione No, lo sai qua perché l'ho detto io oggi a FatePilot Perché lui ha detto Lui ha visto due persone, capito? Da lontano No, lo puoi sapere Eh, lo so Eh, no, non lo puoi sapere No, aspetta, aspetta No, 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 perché ce l'hanno comunicato il colore Possiamo riconoscerli adesso Ci hanno dato proprio il pantaloncino, eh Capito? No, non era niente Non è vero, non è vero Però che cazzo mi dicevi di se? C'è mezzo Vieni a casa Che cazzo sei? Allora, lasciamo lui il 200 che ce ne andiamo a casa Va che andiamo a chiudere gli occhi Ehi, stasera lì chiudiamo l'844 Tranquilli Non dall'altra parte Ma no Andiamo a vedere anche un po' com'è lì Guarda che io oggi quando sono andato a prendere questa Ci ho trovato una Evo Giallo là Parcheggiata davanti a casa Capito? Scendi, scendi, scendi Devi scendere tu Ehi, scendi, scendi, scendi Vieni qua No, no, cosa mi vuoi fare? Che ti vuoi fare? Non mi ha lasciato acqua No, non mi fido Ehi, vieni qua Che c'è? Adio, adio, comunque a me ha piaciuto il silenzio Perché a chi le lascia a prendere Quando ho accorto il provolono, adio Ma perché cosa ti ha fatto? Che ti ha fatto? Eh, no, quando sono entrato in città Mi ha risposto male Perché disse no Tu tieni la testa che non va bene Qua, qua ci sta gente tosta Io mi lascia a prendere Ci ricordi che la gente tosta Che dicevi tu? Eh, ora ti appengo con il provolone A tutti Tu metta la stagione Poi deve andare a capire l'anno prossimo No, bravo Comunque non sto c'ercizando Eh, ma perché te l'ha detto? Perché è così Dalla cosa è andato questo discorso? Eh, perché il primo giorno Che sono entrato in città Mi hanno detto Vai là che ti offrono lavoro Allora, bravo Questo mi manda Sì, ma grazie per il like Vai là che è mio Vai là che è mio Quella che è mio E tutti quanti no Qua siamo pini Qua siamo pini Andai là E lui mi disse Fa scassare Argo sto ragazzi Io veramente Parla un po' fuori Ma mi fa morire da realizzare Salvo che gente E lui è No, ma tu tieni la testa Già ho capito Già ho capito No, non va bene Non va bene E comunque facciamo un po' di A post E muo ci ha ricevuto E tu ti ci non mi Non va bene E muo ti stiamo E te nascendo la notte Insieme a chi si cane E un me merda E ci ha dice E fammi capire Perché tu sai che lui Esce la notte con qualcuno E secondo te Che si è brutto Ucciti Loro cattino Tutte creature e cose E dicono Mi fanno caricarmi Ma sai come Sai come te la giustifica Quella Dicendo che fa Le warzonate la notte Le warzonate la notte E mi mettere Di piantuno Frate Mi mettere connellini Che mi ha gettato L'olio Quello devi fare Quello devi fare E ti devi ingrippare E ti devi ingrippare Perché ci serve Eh ma Sapere Di tutto Allora No ma ascolto Un attimo Cioè non c'è bisogno Che lui va a piantonare Perché io te l'ho già detto Io te l'ho già detto Mi ha proposto A me Io muoio con lui Madonna Poi lo capisco Mi ha proposto a me Capito Cioè mi ha fatto domande Scomode Perché mi ha chiesto Se volevo lavorare Io gli ho detto Che l'attività regale Ce l'avevo già La barrotteria Che comunque Non intendeva Su quello No non sto parandogli Lavori così A me quando Ti ha proposto E quando cazzo me lo dici Ma te l'ho detto 14 volte Ma tu non ci fai parlare Per favore 14 volte Anche davanti a tutti gli altri Tu ci fai parlare Stai svegli su queste cose Stai sveglio Stai sveglio Su queste cose Dei ricordà Andiamo A me quando Vengo in armeria Viene a nome di Di lui Viene a nome di lui Nell'armeria E disse Non ti preoccupare Me la puoi dare E ho detto Sino Non ti preoccupare Che ti posso dare Una giorno E otto munizioni E lui disse Ma Ma esse non c'è Cioè mi piace il nome Completissimo Samir Non c'è Samir E chi vuole Samir da Chi cazzo E su Samir E lui si Mette a ridere Ah non lo conosci Fra magica Al senso Samir Casi vuoi munizioni Mi porti porto ad armi Da uno E otto munizioni al giorno E lui fa Vabbè ho capito Ciao fra E ho detto Ciao E sei andato Stava pure Tony Quella giornata con me Stava pure Tony Che infatti Io gli ho proposto Io gli ho proposto Una cosa a Tony Ma te la dico pure a ti Qua viene un sacco Francesco Grazie per il like Bavio Senza porto ad armi Allora Io avevo pensato Solo persone Che noi conosciamo Ovviamente Che voi sapete Che si può fare Un incontro da qualche parte Che ti servono 50 pistole 300 munizioni Ma sei pazzo Vuoi morire Vuoi che ti seppelliscono Perché cosa proprio Perché c'è l'esclusività Su queste cose Non pensatele nemmeno Voi due Queste due cose Se non sapete nulla Se vi prende mercato nero Vi scoppia A voi l'armeria Esatto E prendiamo anche l'armeria Non si fa Non si fa Tu continua qua Come hai detto prima Tony legale Madonna Madonna La stessa cosa Ma tu mi se ne deve fregare Di queste cose C'è No No Allora Fagli un discorsetto Pura Lui fra Samassin Perché sto già facendo Non lo so No Non lo voglio sapere Non lo so Io non lo voglio sapere Allora Tony è un amico tuo Come un amico mio Io quando gli ho proposto Sta cosa Ho detto Fra Gli ho detto Io già c'ho un nome Che facciamo sta cosa Gli ho detto No Ma io non mi interessa Di andare a trovare Io le persone Per fare sta cosa Tu mi passi i nomi E io mi vado A fare gli incontri Così anche io C'ho un po' da fare qua E lui mi ha detto Ok Ascolta me E lì mi ha detto Ok Eh no Ma io perciò Ma perciò ne sto parlando con voi Fra E tu me lo dici Eh ma mi dice Ma ogni volta Quanto tempo fa è successo Eh fra Ma calcola Quattro giorni Penso una Bella Grazie per il like Benvenuto E lui già ci aveva il nome di questo Che andava a pigliare Non so se C'ha le ha prese Le armi da lui Ma è comunque Ascolta me Non lo fare Poi No 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 Poi Trovo io gli parlo Ma non lo vedo mai Eh l'ho incrociato prima Io stavo qua all'armeria Eh perché aveva Quello evento lui oggi Sì Che vento Ma poi Quello di motocrossero Oggi E poi Secondo me Secondo me C'avete una brutta persona In mezzo a voi Eh Chi è Eh no Fra Io mi sono fatto un sogno Che io sogno assai Però Quando sogno E mi sogno Che mi contattano Per chiedermi delle cose Vogliono sapere Io come mi chiamo Perché Ci hanno dei fascicoli Io mi sono messo a ridere Perché io sono dell'armeria E non ho mai fatto un cazzo Non ho mai fatto niente E mi dicono Sì Cire esposito Fra ma io non so Cire esposito Hai sbagliato persona No Sì sì Tu sei Quello dell'armeria Eh E come ti chiami dentro Eh fra Qualcazzo Vieni dentro E ne parliamo Però Sta in mezzo a voi È uno di voi Però Ste domande A me Non lo so Boh Io sono un po' pazzo E mi devi dire chi è però E Attiamocene dentro però Perché così Sono già passato Di ciò Vai Ma questo Sa tutte ste cose Non mi dice un cazzo Mannaggia la puttana Eh sì Adesso io dico Allora Io ti posso dire A chi mi sono sognato Fra Poi non ti posso dire Ti posso dire Che cosa mi sono sognato Allora Come cazzo Siamo Come che tu sa tutte ste cose Me lo dici adesso Ti devo spaccarlo Eh no Fra Io già te l'ho detto Ogni volta che ti chiami Ti chiamo non rispondi Ogni volta che chiamo in radio Nessuno risponde Ogni volta che Come te le dico Ste cose Poi fra Stasettimana Siete stati Super impegnati Fra Non mi sembrava il caso Avevate cose più importanti Da fare No Perché stavamo battagliando Proprio per queste cose Che ci stai dicendo tu Ah ok Si chiama Quello là Che mi sono sognato io Aspè Come si chiama Un sogno Mi sono fatto una settimana fa Mike Michael Non lo so Non lo so Non lo so Mannaglia Mannaglia Ma ha detto solo Fai attenzione A quello che fai Perché ci hanno Tanto di fascicoli Su di te A me Fra ma lo sai Con chi stai parlando Io sono il direttore Dell'armeria Fra io faccio legale No fra È impossibile Perché li ho visti io E ti hanno collegato A lui A me Io ho detto Fra ma voi state proprio Mare Sì ma Questo è tutto È tutto Stremo uno Cioè non voglio più Sentire i video di socio Mi dissocio Eh sì Ma E li ha visti Perché mi ha fatto vederli No fra Questo è secondo me Un cazzaro Fra perché Tu mi chiami in un altro modo Perché è associato Perché Spesso qua dentro Tutti quanti mi chiamano Ciro Ciro Non su Ciro Fra io su Peter È quello associato Che io su Ciro Esposito Quando ho detto Io non su Ciro Esposito Avete sbagliato Persona Ma ho detto Sì tu sei Quello dell'armeria 200 Ho detto sì Ma non su Ciro Esposito Ah ok Come ti chiami Dentro in città Eh non te lo dico Non te lo dico Bravo Ho detto Non te lo dico Non è che R Però mi passa Troppo strana Sta domanda È come ti chiami Dentro Cioè perché Hai capito Andre Hai capito Ma Bella Carmine Bah Capiremo anche questo Ciro Tu stai con gli occhi Ben aperti Sempre Io cazziccio Quando devo cazziccio Grazie per il like Quando devo lavorare Lavoro Ok 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 Oh scusa scusa Stavo distruggendo il locale Buonanotte Ciro Buonanotte Io mi hai dato mille Dietro e c'ho una brandina Alla Ok Ciao 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 Oh Fatti da la mano Buonanotte Ciao No No Gli hai da dare la mano No no Non mi voleva fregarmi Capito Ma cosa fai tu come Capito Non gli hai 10 minuti in applicativo Sì sì Adesso ti porto tanto Stavo da di casa Ti porto a vedere Casa da loro E domani forse Se ci serve da bere Così un tassello Che ci serve Tocca Tocca stare lì Ti ricordi di avere La battaglia Eh no Sì Sì Ho capito tante cose Ma spero Mi sa che non è questo Dove ero la battaglia Scusa Quella che vai avanti Quella casa enorme Eh sì Dietro quella casa enorme Con tutte le luci colorate Non questa Eh perché non Mi chiamavo pure io E c'è la sinistra Un sacco di tempo Un sacco di tempo fa Capito È proprio Inizio Inizio Di quando sono arrivati In città Praticamente Subito dopo che Non c'era più nessuno In barri Sì È qua Vai avanti Ma che questa è questa è questa No non è vero Questa destra Questa destra Questa qua è vero Ma sei sicuro? Dietro questa casa Siamo andati alla battaglia Fammi vedere Non è questa è a destra No no È tutta questa sempre No no Aspetta a meno che non c'è un'altra Entrata con il cancello Con un sentierino Sì è questo Dicidi Aspetta io Entrano Come entri Ma non entrai qua dentro No voglio capire Devo vedere meglio In questa casa c'è quattro entrate Ok 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 Sì 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 È tutta questa Ma fammi vedere se c'è un parcheggio qua sulla sinistra Sì 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 La prima volta sono entrata piedi da qua Qua sinistra c'è un parcheggio Esatto E io sono entrata piedi da qua E questo è questo E ti ha portato loro qui? Assolutamente Ma tutti Anche con Pablo sono venuto più di una volta Ho contatti stretti con loro capito Ci ho passato un sacco di tempo assieme Essendo solo in città E quando è che li chiami per farci due parole? A Pablo Anche adesso Lui c'è in città Ma chi cazzo è Pablo Pablo è un ragazzo abbastanza in gamba Sicuramente l'hai già visto e sentito più di una volta Ma lui io comunque aiutami quello che è in gamba A far ridere un sacco Sempre molleggiato Pippo C'è tutta quella gente lì Ho contatti strettissimi con loro Adesso andiamo a casa Ci pensiamo bene Perché? Cioè io per farti capire Posso andare appena il 95 aperto Posso entrare dentro il 95 Cazzeggiamo Andre Che me ne voglio andare da voi Sa che hanno ancora a disposizione quella volta E farmi dare la conferma così Perché di quella discussione Che abbiamo avuto io purtroppo Non ho nulla Spero Ma è una mia parola che io dico a te Capito? Perché dovrei confermare ma Ti ripeto Cioè se no vado lì e ti chiedo direttamente Oh bello mio Cioè Dici papale papale Oh che cazzo è caso? Ormai non ci vado più Oh te Dani Adesso vado anch'io tanto Vado fino a casa Cioè andiamo in un pezzo che faccio a storia Capito lo sanno come sono Ma soprattutto se riesco a parlare con Pablo Con l'altro ragazzo Di cui non ricordo proprio neanche il nome Però è simpaticissimo Comunque abbiamo scoperto parecchie cose stasera ragazzi È tutto Non ricordo proprio Ma c'è mezza luna L'unghia di Dio si chiama quella Cioè mi è fatto caso? Eh? Cioè mi è fatto caso che sembra un'unghia Quando è così? Eh L'unghia del poligione Anche? Anche Ho quella del mignolino allungata che serve per Per l'orecola E anche Andorre Madonna sto sudando Ma io adesso lo sai che Non so perché Ma vedi che si sta annuvolando 26 gradi Non si sta per niente male Non ci posso andare a pire mentre dormiamo Calm Buonanotte Andre Buonanotte bello Eh ma stiamo staccando tutte e due Da un prendere la prima ci fanno le cose sconce No no Poi c'è un letto che si affossa E vado sempre in questo Bella Michele Grazie per il like Bella mia Penso che stacchi anche lui adesso Voleva arrivare ai 100 likes Allora aspettate vi mando Da lui al vuoto Finalmente Oh è la prima volta che ho mezzo letto per me Mannaggia Come cazzo si fa però Qua Allora ragazzi Andate da AIDS Vi ci mando io E boostate tutti i like Che riuscite a mettere I ragazzi per farlo arrivare a 100 Anche stasera Dai Fatemi questo favore Vi ci mando io adesso Ok Una buonanotte da Merone Gli dite Va bene Ditegli che vi ho mandato io Fate bravi 27 secondi Andate tutti quanti A mettere un bel like Al nostro amico AIDS Ragazzi Magari se riesce ad arrivare a 100 Anche lui 100 like Guarda che vi vengo a vedere Se l'avete fatto eh Fate i bravi Notte Andre Passate da AIDS però 10 secondi 9 8 7 6 Buonanotte amore miei Ci vediamo domani Se riesco 4 e mezzo di like